Eh si ragazzuoli belli, eh, doveva capitare, ve l'avevamo detto tutti no? Eh? E godiamo, godiamo! Facciamo questo Requiem, ma godiamo in fondo, in fondo E' quello che ci aspettavamo ragazzi, è quello che ci aspettavamo Io spero che voi abbiate seguito la live del Cerbero Per chi non se la fosse seguita, comunque oggi ci riguarderemo un... Giusto, diciamo la parte più importante della live Eh, però è successo quello che dovrà succedere, eh Diciamo che sono, sono loro stati di parola, io sono stato di parola a promettere di questo Perché vabbè, io c'ho gli infiltrati ormai praticamente, quindi assolutamente Soprattutto il sito che lavora, appena finisce qui la vedo Comunque oggi vedremo giusto, diciamo, la parte più godereccia, eh, ce la riguarderemo Buonasera, intanto benvenuti a tutti, a tutte, laggiù, sono senza idea DrForce73, Furio, non si vince un cazzo, Snake, Bakelite, il Tenente Frank Castle, MrX, Elmodinho Che sta venendo a casa tua ma senza portagliavi Eh, vabbè ragazzi Se busserà stasera alla porta faremo rispondere a chi? Dove è ragionale? Forse è l'oglio ragazzi Ma non verrà, non verrà La parte di Giba guarderemo, esattamente, esattamente Buonasera Lebina, Salmarco, Leti, Evil, Nadaio, Zibighe, chi altro sarà? Insomma, se scrivete in SWAT vi saluto, vi saluto Va bene, poi vi parlerò anche, fatemi togliere questo Reckham Che anche se mi ha portato indietro nel tempo quando ci guardavamo la WWE Che tra l'altro ricordo, eh, visto che oggi è il cerbero, ho visto quante sub adesso Anche i miei aspetti qua Neanche l'1% di quello, però vi ricordo che a 400 sub e non siamo così lontani Ne mancano cinquantina Faremo la Royal Rumble di Twitch Italia, eh Che cos'è? Lo scopriremo a 350 sub Se oggi facciamo tre sub, vi spiego che cos'è, eh, bastano tre sub Oggi mi son messo anche qua questa cartellina, la posseggo anch'io, eh Perché non volevo avercela anch'io la cartellina, una camper 2, mi piace L'ho vista oggi da Matteo, ieri, la invidiavo finta Sapete come quando uno prendeva la Playstation, quella che gli regalava la zia Quella finta cinese, no? Ecco, io voglio la mia cartellina finita dal camper 2 e me la tengo lì oggi, va bene? Eh, wide è un bicipite grosso quanto i debiti del Presg No, ma io non ho i bicipiti, vabbè, io lì ho fatto la risposta, la storia di oggi Tra l'altro appunto oggi, in questi giorni sono stato molto attivo nelle storie Vi invito a seguirmi su Instagram, non ve lo dico mai, seguitemi su Instagram Che lì vi aggiorno sempre su tutto e tutti Oltre che su Telegram, se volete Grazie mille Giussi Ecco, l'abbiamo fatta, 353 Per essere precisi Allora, vai, vi dico che cos'è sta noia Rumble di Twitch Allora, vabbè, nulla di nuovo in realtà perché Ma perché non partono sempre così adesso? Ma io avevo messo tutto a posto Me le fa una ad una Ma perché? Ma perché? E le devo togliere un attimo Le devo togliere un attimo Se no, aspetta, facciamo così E non so, mi partono tutte Non ho capito perché No, però le 5 io le ho raggruppate Si poteva fare Wide non in grado Ma in realtà l'ho fatto Fino all'altro giorno funzionava Una mossa è sputtanato tutto Ma poi vado a dare Un'occhiata Comunque stavo dicendo Allora, che cos'è la Royal Rumble di Twitch? Arrivate a 400 abbonamenti La vedremo, insomma Però vi spoilerò che cos'è Prima di oggi mi sono comprato WWE Dico nulla di nuovo Perché mi pare l'abbiano fatta Il Cerbero L'abbia fatta anche Ometan L'ha fatta tanti canali in passato Però io ho fatto dei personaggi Ragazzi E chiaramente tutti della lore Grazie mille Way Grazie mille Sette mesi Incredibile Incredibile Grazie mille E ci sono chiaramente Alcuni personaggi Alcuni della lore di Discord Ed altri Proprio della lore di Twitch Adesso viene spoiler C'è Fabio Z C'è Don Vito Ma perché c'ho anche la chat Tutta sputtanata però Cioè ma non è possibile Ma va tutto malissimo Vabbè Vabbè Comunque dopo metto a posto tutto Ragazzi ve lo prometto Doviamo essere altospendenti Perché adesso l'unico altospendente Mi sa che se ne andrà dalla piattaforma O non lo so Perché oggi ho la faccia tosta Però vi dicevo Ci sono i villain Ci sono i buoni I cattivi C'è un po' di tutto Ho creato 20 personaggi Finora L'obiettivo è arrivare a 30 Così appunto si fa una Royal Rambo serie E la streamiamo qua Su questo canale Ok Quindi ci sarebbe Un'area dedicata Molto figa Abbiamo già fatte Per chi sta su disco L'abbiamo già trasmesso Parecchie Royal Rumble E i personaggi Li ho fatti Posso dire che li ho fatti Veramente bene Qualcuno che li ha visti Può anche testimoniare Stiamo godendo tutti Carlo Stiamo godendo tutti Ma più che godendo Era arrivato quello che doveva arrivare Cioè alla fine L'ha creato Riccardo Sì anche qua C'è anche Riccardo Rosario Ovviamente Ci sono i mercanti di orecchie C'è un sacco di loro Magari faccio pure Quelli del Cerbero Dai Se se lo meritano Se fanno i bravi Ma oggi hanno fatto i bravi Io voglio Fare i complimenti Adesso non dico colleghi Perché sennò poi qualcuno Vabbè comunque Faccio i complimenti al Cerbero Perché quello che ci hanno promesso Ci hanno dato È stata una live che mi sono seguito Con gusto Grazie mille per i 420 Riattivo gli alert Scusate che Quando mi hanno donato le sub Partivano Scusatemi se ho tolto gli alert Scusatemi Grazie bug Adesso le ho riattivati C'è il live train Tra l'altro forse Grazie mille comunque Grazie per i 420 Wide apri quella cartella No La terrò lì Ma è finta In realtà Non c'è niente dentro Non c'è Non c'è niente Tocca festeggiare Vabbè adesso non esageriamo Abbiamo già festeggiato per la palla Non è che posso sempre festeggiare Qua se no Mi devo ubriacare tutte le sere No però Insomma Sono contento Sono contento Ciao Gios Benvenuto Sono contento Di come siano andate le cose Sono contento Che questa live Abbia chiarito tante cose Sono esterrefatto Dalla faccia tosta Invece del personaggio Di cui si è parlato oggi Dal Cerbero Che ha fatto la live Per tutto il tempo La live del Cerbero Cioè posso andare lì A rispondere Eh Perché con anima Questo va bene Con lui no Lui può permettersi Perché lui è presente Di andare a rispondere Alle accuse Sono stati live A dire stronzatine Cazzatine Ma ripeto Quello che vedremo oggi Che rivedremo Perché per chi non avesse visto Il live del Cerbero È stata caricata È stata caricata L'intervista Fatta da Dal signor Marra A Come si chiama Adesso mi sfuglio A Giba A Giba Ce la riguarderemo oggi Perché lì è il momento Più che ci guardiamo Quello ci interessa Eh Success Spero che abbiate Anche apprezzato L'intro Mi sono impegnato Ho fatto pure l'eco Eh In mezz'oretta Ve l'ho clasciata Sta intro Volevo fare qualcosa di diverso Per non mettere Quella del Cerbero Volevo fare qualcosa di diverso Comunque Se arrivasse mai A 500 sub Eh Sappiate che c'erano Il Rumble Per chiudere il discorso Di prima Poi Oggi vi parlerò anche Del drama Del piccolo drama Che si è Succeduto Si dice Succeduto Succe Che Si dice Succeduto Non Come si dice No a 400 sub Scusate non 500 Succeduto Si dice Subito dopo La mia live di ieri Mi ha scritto Ivan Grieco Perché Sul gruppo Del Cerbero E' stato scritto Un post Da dove è nato tutto Io l'ho capito successivamente Mi ha scritto Ivan Accusandomi Di voler Io Accusandomi Palle uomo Di voler fare Un po' di hype Comunque poi guarderemo Il post Ma tutto chiarito Ok Tra l'altro Vi spiego dopo Andiamo passettino Per passettino Succeduto No si dice Succeduto No scherzo Comunque Lasciamo perdere L'italiano Perché Ovviamente Se sei uno streamer A parte se sei Mr. Marra Devi avere un italiano Di merda Ti rendi conto Che tutto quello Che è successo Sul web Dalla venuta Di Riccardo Rosario Stavo leggendo Justi Però mi Mi scappa E' un gigantesco Trille psicologico In cui sono seguiti Questi due personaggi Praticamente identici Tipo Dottor Jack E Mr. Hyde Se uno avesse voluto Fare apposta Non sarebbe mai Venuto così bene E' vero E' vero E' una serie tv Degna Degna di Netflix Secondo me Perché qui Poi oggi Guarderemo anche L'intervento Non so Se ve lo spoiler Ma tanto penso Che la maggior parte Di voi Abbia visto La vita del Cerbero Di Riccardo Come tecnico Insomma Poi si sono mischiate Delle cose Io una cosa sola Io spero che il Cerbero Questa sia una roba Giusto di oggi Perché io vorrei ricordare Al Cerbero Che io ho subito Delle minacce Ti venga a prendere Sotto casa Tu sai chi sono io Non ci dimentichiamo Del personaggio Che è Riccardo Oggi quando è apparso Sono morto Da ridere Per carità di Dio Io non metto in dubbio Le doti intrattenitive Di quest'uomo Perché Poi è migliorato Ormai è un attore Oggi ha fatto un intervento Pochi secondi Ma incredibile Quindi Comunque Tralasciando il suo attore Ricordiamoci di chi è Perché Adesso va bene Con la storia di Matteo Magari qualcuno Perché il web Dimentica facilmente Quindi È così È così Quindi Io spero Che insomma Sia un'apparizione Così Ma che non si Non si ridia Non si riporti in auge Questa figura Perché comunque Sappiamo bene Non ci dimentichiamo Che cosa ha fatto Ecco Questo Lo spero Lo spero Citando Spero che tutti Se lo ricordino E che non si dimentichino Allora prima di iniziare Volevo Anche siccome Sono stato molto criticato Nuovamente Anche sotto il mio video In realtà Questa è una cosa Sono contento Che perlomeno Lo fanno Perché io ho sempre Ma mi rompono il cazzo Sotto il video Di lo spero Dei freebooter Ma non lo fanno Mai sotto i miei Invece Sono stato criticato Vabbè Diciamo che Il nome di chi mi ha criticato Qualcuno di voi Se lo ricorderà Anche Signor Nichols Che chiaramente La critica Era quella Che va di più Nei miei confronti In questi giorni Ve la leggo anche Che gli do anche Un po' di hype Al signor Nichols Io non Dico anche il nome Non so cosa vuol dire Non essere nominato Allora la critica era Fin quando Saba Si comportava così Con gli altri Andava bene Ora che si sta Si sta rivoltando Contro di lui Non si fa lui Inteso me Non si fa Che cringe Allora Io inizialmente ho risposto Anche Mi pento Dalla risposta che gli ho dato Grazie mille per l'hype train Livello 2 Comunque ragazzi Grazie per tutti quelli Che hanno partecipato Ho risposto un po' così Era pure il ristorante Un po' scazzato Più che altro che Nichols Mi rompe i coglioni Da tempo Quindi Quindi Mi ha rotto un po' il cazzo Il personaggio Però poi Mi sono impegnato A scrivere una risposta E ve la vorrei leggere Perché vale Come risposta E dell'ultima volta Che parlo di questa cosa Nel senso E non è una giustifica E L'ho già detto Gli altri giorni Però Sembra sempre Che io mi voglio giustificare Semplicemente È quello che penso Sulla questione Siccome Grazie suonatore Grazie mille Per aver regalato La sabba Non sono la vecchina Che sicuramente Ce la rimanderà indietro Però va bene così Allora Vi leggo la mia risposta E deve essere tombale Nel senso che Dopo di questo Non mi esprimerò più Sulla questione Ognuno ha l'idea che ha E è giusto Che la mantenga Ve la leggo Perché è inutile Che la ridica Cioè Ve la leggo Perché l'ho scritta Per cui a sto punto Ve la leggo E la risposta Appunto All'accusa Diciamo Del Era un amico No? In classica Era un amico Era un amico Allora Questa è la mia risposta Allora Risponderò bene Una volta per tutte E sarà l'ultima Quindi leggete In questo caso Ascoltate Attentamente Soprattutto Tocnikos Che l'unica cosa Che sai fare nella vita È criticare sempre Che purtroppo Verge Nel senso che Nikos A parte quando suono Che dice che apprezza Sono contento Come Come Opinionista Del web Lo disgusto Io con Matteo Ho sempre avuto Un rapporto tranquillo Perché con me Si è sempre comportato bene E questo A parte Diciamo L'ultimo periodo È vero E di certo Non mi sarei mai messo A litigare con lui Che come vedete È impegnativo Solo per Come vedete È impegnativo Litigare con lui Scusate Adesso ingrandisco Anche un po' Perché sennò Non leggo un cazzo Perché come vedete È impegnativo Perché effettivamente Litigare con Matteo È impegnativo E poi Devi star lì Lui ti tortura Nelle storie Quindi devi star dietro a tutto Solo perché In altri canali Insultava Chi gli stava sul cazzo Non perché lo trovassi Eticamente giusto Ma perché io credo Che se voi Vedete un vostro conoscente Neanche un amico Che litiga con qualcuno Che gli urla Insulti in faccia Non lo Non lo disconoscete Al massimo Scusate Come ho scritto qua Ho scritto in un italiano Pessimo Qualcuno L'urla in faccia Non lo disconoscete Al massimo Come ho sempre fatto Scusate Ho detto male io La mia virgola Al massimo Come ho sempre fatto io Vi dissociate dal suo comportamento E dite che a voi Questa cosa non piace Cosa che io ho fatto Con Matteo Per esempio Citiamo i doxing Per dire Ma chitte Buonasera Buonasera a tutti Chi sta arrivando ora Nel senso che io Da alcuni comportamenti Di Matteo Anche prima Concise questa storia Ho sempre preso Le distanze Perché non mi piacciono Non li trovo corretti Ok Cito l'esempio Di Palle Uomo Ricordatevi di fare un parallelo Con le vostre vite reali Ok Con la vita di tutti i giorni E pensate che se mai Litigare Litigaste con qualcuno Perché sei comportato Maleducatamente Con qualcun altro O se vi pensate Sul rapporto Che hai con te Perché qui sembra Che io Debi a spiegare L'ovvio Ok L'unico momento In cui Ho avuto Qui ho scritto Devo correggere un po' Perché l'ho scritto Stamattina un po' Ricognito Ho avuto Tentennamente E' stata la questione Un botti Allora sulla questione Un botti Io volevo Dire una cosa Non so quanto Si è uscito pubblicamente Io ho capito Che oggi al Cerbero Sarebbe uscito Anche un video Poi non l'ho visto Sulla questione un botti Io non mi esprimo più di tanto Io spero che un botti Prima o poi Parlerà di questa storia Perché lì Ecco lì è stato Un momento in cui Veramente Ho detto Aia ma che personaggio Sto ospitando Sul mio canale Poi chiaramente A parte la chiamata Con un botti Non è mai uscito Nulla pubblicamente Quindi non mi sono espresso Però magari scriverò Un botti Uno di questi giorni Se vorrà Il mio canale è aperto Per questo tipo Di testimonianza Ovviamente Un botti Mi chiamò Per raccontarmi la storia Ma mi chiesi Di non dire nulla pubblicamente Ma è pur vero Che io seppi La versione Mai la versione di Matteo Su questa cosa Non potevo neanche parlarne Proprio per la richiesta Di riservatezza di un botti E questo Assolutamente È così Detto ciò Io penso che Dato quello che scrivete Non vi sia mai capitato Di rendervi conto Che una persona Che pensavate Fosse perlomeno onesta Dov'è? Dove l'ho scritto? Dov'è? Eccolo qua Però Ha tutte queste lacune Non dico che io Avesse stima Nei confronti di Matteo Ma perlomeno Pensavo fosse una persona Onesta e coerente Cosa che ha dimostrato In questi giorni Di non essere Minacciando di querella Come un liccardo Qualsiasi Solo che sul web Voi pensate Che ci si divide In frazioni Fra amici e nemici Ecco Questo è un punto Su cui vi invito A riflettere Nel senso Anzi In realtà Da qui Posso anche smettere Di leggere Perché ve lo posso raccontare Allora Questa cosa Delle fazioni È una cosa Che Ho anche fatto Nella mia carriera Su Twitch Soprattutto all'inizio Per divertimento Ok Nel senso che Capitava Si faceva fint Rifara la squadra Contro Il mio canale Contro il tuo Ok Quando sei un piccolo canale Lo si può fare Anche per divertimento Ma sempre per divertimento Perché come vi ho detto Guardate Io nella vita Mai ho odiato Nessuno Soprattutto su Twitch Magari nella vita reale Si può parlare Di ma Non sicuramente su Twitch Però Però C'è questa Tendenza Da parte di alcuni Che frequenziamo Alla piattaforma Alcuni Chattari Diciamo Dico voi In generale Di pensare Che ci siano Delle fazioni Ok Che quindi Ci siano degli alleati Che ci siano invece Dei villain Degli eroi Qualcuno che combatte Per il bene Qualcuno per il male Io vorrei farvi notare Che in realtà Questo Succede nel mondo Dei fumetti Nei film Nella vita reale Non è che esistono Certo esistono Delle persone Che magari hanno le stesse idee Si raggruppano Ok Per esempio Un partito politico Per dire Però anche all'interno Un partito politico Ci possono essere Delle discrepanze Ci può essere Un disaccordo Quindi quello che voglio dire Che anche se io Ho dato spazio A un personaggio Come Matteo Io l'ho sempre fatto Perché con me Si è sempre comportato bene A parte alcune Situazioni Però in cui Io sono intervenuto E in più Perché ovviamente Io come facevo A sapere tutto ciò Io mi metto avanti Un'evidenza In cui anche il CERB Ha ospitato Una persona come Matteo Eppure la maggior parte Delle critiche Mi le sorprese io Perché Sono un po' più facile D'attaccare Essendo un po' più piccolo Come canale Bella paraculata E grazie Alba Che lei è sempre Della mia parte Come so No però non ci sono fazioni L'ho appena detto Però io Non è che posso Ogni persona Che porto sul canale Assicurarmi Che alle spalle Non abbia sentenze Che alle spalle Non abbia Truffe Eccetera Io porto delle persone Che posso reputare O non valide Poi posso Oddio Ma non gli avevo tolti Sti cazzo di alert Posso reputare Personalmente Abili o non abili Nel loro settore Io questo ho fatto con Matteo E' stato un errore Sì no Ci si può pensare Ci si può pensare Però zimi che io inviterei Adesso Voglio dire Poi se uno vuole andarsi a vedere Liccardo Se vado a vedere Liccardo Però scrivere In live C'è il gobbo Dobbiamo fare pubblicità Agli altri Un po' come se scrivesse Da lui C'è Weidalf Sarebbe sbagliato Se volete andare a vedere Liccardo Se volete rimanere qua Però non scriviamo in chat Perché oltre al gobbo In live ci sarà tanta Anche altrimenti Allora facciamo pubblicità a tutti Non solo A Liccardo Va bene Comunque stavo dicendo Assurdo ormai Vabbè io faccio pure pubblicità Incredibile Comunque stavo dicendo Stavo dicendo Che quest'idea Che una persona Non possa Per esempio io Questa persona In questo caso io Possa cambiare L'idea di un'altra persona In questo caso Matteo Saba Perché vengo a scoprire Delle cose E' assurda Adesso che uno Non mi può rimproverare Che io ho ospitato Matteo Saba Sei mesi fa Perché ora sono uscite Queste cose Su Matteo Saba Perché io mi ricordo Di una marea di gente Che appoggiava Matteo Saba Gente in chat Streamer Non streamer Quindi quello che voglio capire E' perché una persona Non può cambiare idea Su un'altra Dopo che viene a scoprire qualcosa Per un conto che se la cambi Da un momento all'altro Senza motivo Ma se io vengo a scoprire Tutte queste cose Su Matteo E nel momento in cui Decido di invitare Una persona come Milite Debo essere Avvisato Che nel momento in cui Adesso questo sta venendo a Torino A farmi la denuncia Capite Io domani Oggi Vengo querelato Se non siete capaci Palle Uomo C'ha ragione Non è un canale professionale Non ci sono alert Adesso vado a toglierlo Perché Se questa è la vostra maturità Che vi devo dire Stavo parlando un attimo Cioè queste cose Se posso fare Io vi ringrazio anche Perché costano dei soldi Queste cose Ma arriva poco e niente Però allora Vado un attimo a toglierle Che devo fa? Mi ho obbligato a fare queste cose Da piccolo Dittatore Allora Andiamo a toglierlo Perdo anche tempo Perdo il filo Vabbè Allora Altre informazioni No Sound alert Devo aprirla da qua Anzi Faccio proprio Disinstalla Disinstalla E basta Poi pensiamo se rimetterla No vabbè Bombardino Ma il suo è una firma Ma io la ringrazio Più che altro ragazzi Se volete supportare il canale Fatevi la sub Ci sono il coso per i boss Non mi fate se stronzate Dai Veramente Cioè ma non mentre parlo Poi capisco Quella roba io l'avevo messa Che magari in maratona Veramente Va bene No 100 euro no Però se li metto Li aumento Almeno a 500 bit Almeno se dovete cagliare il cazzo Ci guadagno almeno 2-3 euro Va bene Comunque stavo dicendo Dove ero arrivato? Stavo dicendo Ah sì Nel momento in cui Ti rendi conto Che una persona Ha Ha un passato diverso Allora uno prende le distanze A determinate cose Però io non mi pento Di aver invitato Matteo In alcune delle mie live In alcune sì Di averlo fatto entrare Tipo con palle uomo Ma lì Tutte e due Si sono dati Uno con l'altro Però in generale Io non mi pento Perché lì Era una persona Che appariva Per quello Che non era Poi quello che si è rivelato In questi giorni Quindi io mi prendo La responsabilità Magari di avergli dato visibilità Perché qualcuno Cioè E qui rido Perché visibilità Io all'epoca facevo Se va bene 100 spettatori Quando proprio andava Bene 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 Ma neanche Quindi visibilità Di che Massa visibilità Io la può aver dato Il Cerbero Quando l'ho ospitato Ultimamente Che cazzo ne so io Ivan Grieco Rubino Non so che cazzo L'ho ospitato Rubino forse no Allora sì Forse con l'Iccardo L'ha fatto entrare Io visibilità Quante gliene Possa aver data A Matteo Capite E anche questo È ridicolo Quindi Però mi dispiace Ecco quello che voglio dire Che mi dispiace Di Ma non è che mi spiace Mi rendo conto Che effettivamente Si è rivelata Una persona Che io non mi aspettavo Cioè mi aspettavo Determinate cose Ma alcune altre no Ok Quindi di questo mi dispiace Non devo chiedere scusa a nessuno Nel senso che Ripeto Come ho sempre detto Ognuno si fa la propria idea Se uno pensa che Per questo motivo qua Io non sia più valido A livello personale Da seguire Lo valuterà lui stesso Nel senso che io non sono qua Grazie per i 200 Giù Però Però Persino Palle Che ha sempre avuto Ha sempre guardato Non di buon occhio Saba Non mi ha mai detto Ah io te l'avevo detto Perché Palle Sa bene Come C'è il percorso Che ho avuto con Saba Non mi ha mai detto Io te l'avevo detto Capito Non mi ha mai Non mi ha mai rinfacciato nulla Anche se Palle Aveva Ci aveva visto lungo E non è la prima volta Che Palle ci aveva visto lungo Ognuno su schermo 1 E l'avevi stato su schermo 2 Ora live su schermo 1 E l'iccardo su schermo 2 Vabbè Se vi piace così ragazzi Due live in contemporanea Non penso che le seguirete bene Nessuno dei due Ma io ripeto Anche io Fossi in voi Anch'io Sarei già andato Riccardo Io anche su una torre C'era un sacco di gente Attorno a me Che mi aveva dato avvisaglie Su Matteo Saba La questione è Ma se con me si comporta bene Non so nulla di questo Chiaramente non sapevo nulla Di tutte queste sentenze Eccetera Che sono uscito fuori Ma io Ma perché devo rompere Perché poi ripeto Piazzarsi contro Matteo Saba Ora ha un senso Capite Ora ha un senso Perché ora succede Abbiamo del materiale Ma andare contro Matteo Saba Vuol dire avere rotture di cazzo Per cui io semplicemente Non ho voluto Rotture di cazzo inutile L'unico momento In cui io ho detto Guarda un Botti Se vuoi se ne può parlare E' quando un Botti Mi ha raccontato quella cosa Che io non vi racconterò tuttora Perché ripeto Finché un Botti Non decidi di farla uscire Quella cosa lì Io rispetto la sua decisione Ok? Nel momento in cui un Botti Volesse parlarne Allora se ne parla Lì è stato l'unico momento In cui ho detto Ok qua Volendo se ne può uscire Ma per il resto Io ho mantenuto Dei rapporti Neutrali col Presidente Cioè Se c'era qualcosa Passavo magari in chat A salutare Così Tanto scrivo sempre Ah basta spendente Se cazzate qui E me l'andavo Live di Matteo Me ne sono seguite Veramente poche Lui ogni tanto passava da me Si è sempre fatto la sub E fine Capite? Cioè Se quella è amicizia Io ripeto Riflettete Su un termine amicizia Grazie mille Manforo Per i due mesi Grazie mille Nell'apprezzare la tua crescita Professionale Minore 3 Grazie mille Man Grazie mille Comunque ripeto Di questi commentini qua Me ne fotto il cazzo Io rispondo Giusto perché ogni tanto Mi va di rispondere Però Io vado avanti Ripeto Il canale è stando molto bene In sto periodo Stiamo bene con le sub Bene con i numeri Per cui La partner sicuramente Ha dato una mano a questo Quindi io vi ringrazio Ci mancherebbe Io so che ho più gente Che mi supporta Che gente A qualcuno lo so sul cazzo Ma è giusto così Che so C'è un Gio De Luca Per esempio Ogni volta che entra il chat del Cermo Mi deve cagare il cazzo Ma io lo so Ma questi me li porto dietro a tempo Cnicos Gio De Luca Ci sono alcuni Eiterini Che mi porto dietro a tempo Ma va bene così Fan parte Fan parte della storia La difesa di Wilde Si può dire Che ha dato spazi enormi Lasciando Insultare me Però non si è mai esposto Non ha mai detto Io garantisco per Matteo Se hai fatto il suo conto Non deve rendere conto a nessuno Ma guarda Lupe Io te l'ho detto Guarda Di quello Ecco Tornarsi indietro Affronterei diversamente quella live Ma non tanto per dirti La paraculata a te Perché ripeto Non ti devo nulla E tu non devi nulla a me Perché Fari processi live E al di là di tutto Sempre un po' sbagliato Quello è un errore di inesperienza E me lo prendo tutto Quindi ok Lì faccio un mea colpa E me lo prendo tutto Però ripeto Streammavo da 5-6 mesi Stavo vedendo numeri più grandi Ti fai un po' prendere Quindi quello Assolutamente me l'addosso Ma per il resto La gente che va a dire in giro Ah eri amichetto Gli leccavi il culo Ma leccavi il culo dove? Cioè capite Che è assurdo Cioè veramente assurdo Comunque Andiamo avanti Dai ci siamo Volevo fare 5 minuti E sono diventati almeno 10 Ehm Ma no Vabbè ma suonatore Ma io guarda Con Loop non ho problemi Me l'ha detto di tutti i colori Lo so bene L'abbiamo anche ascoltato Io quelle cose Di che mi ha detto Loop Non me le dimentico Infatti non è che con Loop Ecco di nuovo Mettiamo le mani Le cose in chiaro Grazie per il cerchio Va bene tutto Ma quando torna una parte di arte In questo canale Molto presto Lupo Appena Appena adesso è finita Questa fiammata Di content Non vi preoccupate Penseremo anche all'arte Come giusto che sia Come vi avevo promesso E come voglio fare Perché lo faccio Soprattutto per me Ehm Ciao Paolo Vi saluto tutti ragazzi Scusatemi se non vi ho letto Uno ad uno Faccio difficoltà Comunque Vi dicevo Non è che ora con Loop Siamo amici Semplicemente Ci siamo chiariti Che dovevano fare Cioè nel senso Ripeto Io Basta Mi frega un cazzo Devo fare guerre Ok me le ricordo Loop cosa mi ha detto Me le ricordo tutte Le parole che avevo detto Io direi che la partita Di sicuro non sta 1 a 0 per lui Nel senso che Per quanto io possa aver Magari sbagliato Appunto a fare quella live Con Matteo e Pippega E poi dopo Me ne sono state lette Però va bene così Nel senso Va bene Loop Se farà la sua Io mi farò il mio Ehm Va bene Ehm Eccolo qui Aspettando ancora Un po' di guardia E bravo bravo Il geno Passi passi Poi vada dal pelato Che Devo passarci Uno di questi giorni Va bene Comunque Va bene Va bene Va bene così Allora Andiamo avanti E Andiamo a Vederci Cos'è quella cartellina Non ve lo posso dire Non ve lo posso dire Cos'è la mia cartellina Personale Una camper 2 Non ve lo posso dire Andiamo avanti E godiamoci subito E poi vi spiego Anche la storia di Ivan Ve la spiego Verso fine Godiamoci subito Quello che tanto Tutti avete visto Già dal Cerbro Quindi è inutile Che facciamo Un hype Su cose che abbiamo Già visto Cioè la testimonianza Di Gilberto Penza Detto Giba Sulla truffa Di Matteo Saba Ok Matteo è un ex speaker Cioè scusate È uno speaker Che lavorava per Zoli 105 Ok Andiamo a vedere Eccoci qui Sono in compagnia Come potete ben vedere Ben vedere Ben vedere mica tanto Allora sono Giba Per chi mi conosce Faccio il DJ radiofonico In una radio importante italiana Un gruppo molto importante italiano Da praticamente tutta la vita Insomma da 30 anni Siamo qui per parlare di Matteo Saba Beh intanto io non è che sono qua Per parlare del soggetto Ma per parlare della mia esperienza Cioè quella che è stata La mia esperienza Con il soggetto Della vicenda Non di Siccome mi sono arrivati Altri link Altre dirette Che avete fatto Io non Non mi permetto Di parlare Di altri avvenimenti Dei quali non ho Prove tangibili O elementi incontrovertibili Nel mio caso Ho elementi incontrovertibili Cioè Non si può discutere Sugli elementi Allora El Simo Allora questo lo voglio dire Adesso ancora prima Poi non so quanti di voi L'abbiano visto Penso quasi tutti Allora Hai avuto tempo di vedere Modo Scusa Tempo e modo di vedere Quello che ha detto Matteo Saba In sta cosa Nella sua live Smentisci tutto brutalmente Allora Questo l'ha detto anche In live dal Cervo Lui fa vedere qualcosa Che non è Perché poi qui La sentenza di Torino Lì di Milano Non ho capito bene Però Quello che si vede qua È Fattuale Allora Ci sono delle cose Su cui si può discutere Ragazzi Ok Delle altre cose Su cui Non si può discutere Nel senso È inequivocabile Questa testimonianza Perché poi C'ha carta che canta Ok Poi Matteo Se avesse avuto Il coraggio La coerenza Di entrare in live Dal Cerbero oggi Avrebbe potuto rispondere Fare la sua live Dall'altra parte Sì 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 No no Ma io adesso Lo sto dicendo in generale Ciao Marghe Non sto Non sto Non sto Attaccando te Sto dicendo Romper il cazzo Con Non serve a nulla Lui deve andare lì E rispondere Perché Queste Sono cose Fattuali Ok Roba uscita Da un tribunale Qui non si parla Di Twitch Qui si parla Di una denuncia Che sta facendo In questo momento Giba Per una truffa subita Che è Inequivocabile Poi lui Potrà dare Le sue motivazioni Avrebbe fatto meglio Darle magari dal Cerbero Posso che va solo la vettina Cioè ovviamente Ma qui Non c'è da discutere E questo è stato detto Anche la vita del Cerbero E voglio ripeterlo Anche io Cioè io capisco Che magari Io Ma pure per le truffe Cioè Visto che c'è la cartina Di una camper 2 Questi elementi qua Sono riusciti A rompermi il cazzo Perché io Nell'inchiesta Che ho fatto Sulle truffe Di Liccardo Nei gruppi Di carte Pokémon Questi sono riusciti A dire Ah ma al posto Che fare Ah tutto il content E fare esercire Ragazzi Perché non ha denunciato Allora Innanzitutto Al massimo Denunciavano i ragazzi Ok Perché io Non devo denunciare Un cazzo Perché a me Fortunatamente Non mi hanno mai Sfilato una lira In vita mia Ok Secondo di tutto Questa È strumentalizzare Un lavoro Di cui io Vado fiero Perché io Sono veramente contento E fortunatamente La gratificazione Al di là Di chi Magari mi ha fatto I complimenti In chat O sotto i video L'ho avuto Dagli stessi ragazzi Che mi hanno ringraziato Perché loro L'unica cosa che volevano È riavere quei soldi Perché spesso Rivolgisi alla giustizia Per quanto sia sempre Sacro santo Eh C'ha dei tempi infiniti E non sempre riai soldi Ok Ai ragazzi Interessava questo Poi Non metti in dubbio Che sarebbe stato giusto A denunciare Ok Perché Riccardo Ma Fa il paladino Io non c'ho Nessuna denuncia Tu si Ci sta Si sta prendendo Il suo momento Di rivincita Lo posso anche capire Però Però C'è Che due colleghi Che neanche guardano Per me Ecco Ieri parlavamo Di degni Amici Degni Io non li trovo degni Di essere definiti colleghi Ok Definiscono il mio lavoro Fatto male Perché non ho denunciato Dopo che ripeto Ho fatto risarcire Sei sette ragazzi Da una truffa subita E veramente Strumentalizzare Giusto per sputare Un po' di merda Sopra Il sottoscritto Però Fortunatamente La maggior parte della gente C'ha un cervello E ha capito Che il mio lavoro Oltre che per fare content Ma basta Con questa stronzata Perché Parlare che io voglio Far visibilità Voglio avere visibilità Avere contenuti Portare esclusive Ma ragazzi Ma è il pane quotidiano Di quello che fa Cioè Di quelli che vogliono fare Il mio lavoro Cioè Questo consiste Avere le esclusive Cercare di portarsi Tanta gente sul canale Cioè Ma cosa c'è di strano Che io voglia Avere gente sul canale Ma veramente Vogliamo parlare di questo Cioè Veramente Vogliamo parlare di questo Cioè Sembra che stiamo parlando Ma tutti Germano Sesso Germano Minite Che ma tu Dici Ah Per vera visibilità E mi dice Sì È il mio lavoro Cercare di essere letto Da tante persone È il mio lavoro Mio Di Guaidal Giulio Di voler essere visto Da tante persone Quindi Ovvio Che ricerco il contenuto Dopodiché Non è che ho solo Parlato di queste cose Ho fatto risarciare Di ragazzi Ma quanto puoi essere Una merda A voler strumentalizzare Questa cosa Per farmi apparire A me Come uno che lavora male Perché non l'ho fatto Non ho fatto la denuncia Io Al massimo denunciavano i ragazzi Lavoro esali Chiamatelo come volete Io ci guadagno dei soldi Da questa cosa Se non è lavoro Sarà qualcos'altro A me non mi interessa Come lo definiscono Come definiscono le persone Eh Quindi A me non mi interessa Di questi attaccucci Di queste persone Perché sono persone piccole Ho dovuto sentire pure la frase Ci andiamo a prendere un caffè Con mio padre Non so Non ha fatto il mio nome Però ogni riferimento Era puramente casuale Allora Avviso per la gentile Colleganza Clientela Che se non colleghi Stimano chiunque Io Non bevo il caffè Con nessuno Perché se dovessi bere Tutti i caffè Che mi offrite Ci avrei avuto Già l'attacco cardiaco Quindi se il tentativo È farmi avere Un attacco cardiaco Ve la mettete al culo Avete capito? Teste di cazzo? Avete capito? Teste di cazzo? Non mi prendo Il caffè Con certa gente Eh? Quindi Caffè Ve lo pigliate A casa vostra Eh che io Me lo piglio A casa mia Non voglio prendere Caffè Con certa gente Non degna Di prendersi il caffè Con me Sapete qual è Il motivo Di tutto ciò Secondo me E chi rode Un po' il culo Che io In un anno E questo è un flex Che me voglio prendere Qui Io non ho mai flexato Una volta in vita mia Me lo voglio prendere tutto E poi andiamo avanti Ve lo prometto Che io In un anno Di Twitch Ho fatto I stessi risultati Che questi L'hanno fatti In due anni Magari Ed altri In ben più In ben più tempo Ok? Quindi Se vi rode il culo Grattatevelo E non rompete Il cazzo Ok? Non vi aspettavate Non me ne frega nulla Vi rode il culo Per questo Cazzi vostri Lasciatemi lavorare Perché di voi Tanto lo so Che tanto il vostro È una ricerca Di Ma non perché io Sia più pronto di voi Quindi voi Prendete visibilità Non sto dicendo questo Però la ricerca È di far parlare di voi A me non mi interessa Di voi Mi ci sciacquo i coglioni Perché ripeto So molto bene Di valere molto meno Di tanti altri Per esempio Il Cerbero oggi Ha dimostrato Di saper lavorare Su queste cose Cento volte meglio di me Hanno anche più mezzi Per carità Per oggi Hanno fatto una live Che gliele invidio Ma gliele invidio In maniera sana Non come fanno loro Che gliela rosicano Perché Una camper 2 Non attacca mica solo me Attacca anche il Cerbero Io sono più comodo Con me ci vanno più pesante Ma attacca anche il Cerbero Io non rosico Io li guardo Con ammirazione Dico Cazzo Hanno fatto un bel lavoro Un bel lavoro Di inchiesta Al massimo Mi ispiro E mi piglio Poi le le pigono Sti cazzi Però Quando una persona Delle persone Lavorano bene Come posso aver fatto io Come può aver fatto Come possono aver fatti altri Al posto che rosicare Marra Non è vero C'è tutto un complesso Dietro Palle uomo Che gli ha dato una mano Germano Io faccio i complimenti A questa gente Non rosico Non nego Che anche io Vorrei arrivare A un livello Tale di avere I mezzi Le conoscenze Per riuscire a fare Un'inchiesta Di questo Di questo livello Però Rosicare Per queste cose E da poveretti E da poveretti Eh? Vabbè Fare i cupom Ma sì Farò i pompini Al cervo Ma sai che cazzo Me ne frega Io quando Ho dei colleghi Delle persone Che lavorano Fanno un bel lavoro Io lo riconosco E sto zitto E al massimo Li posso invidiare Ma ripeto Ma ci si può invidiare Sia con In maniera sana Io li video In maniera sana Nel senso che io li guardo In questo caso Poi ovviamente In altre occasioni Magari Non con è che dico Il cerbero Fa sempre tutto bene Anzi Però In questo caso Dico Cazzo Sono persone Che hanno saputo Lavorare bene E lo vedremo Da questo video Perché questa è un'esclusiva Grossa E roba grossa Quindi E questo Un appello a tutti Smettetela di rosicare Perché anch'io Ripeto Posso dire Ah che bello sarebbe Avere questo Le sub Che hanno fatto oggi Il cerbero Ma io non rosico Al massimo Li guardo Mi ispiro Come non solo loro A tanti altri Anche molto Più valido Il cerbero C'è anche tanta Altra gente Anche più brava Giornalisti Inchiesta Eccetera E Cerco di imparare Da queste cose Rosicare E la meccanica Grazie mille Genova Grazie per il prime Scusate Se si è attivato Gli allers Non riesco a parlare Questa è una meccanica Che ti porta a crescere Voi rimarrete Sempre Nel vostro gruppetto Di persone Lì con le vostre Ma non crescerete mai A rosicare Ma per chi Mi dovete rompere Il cazzo A me Ma io faccio Le mie cose Non l'ho mai fatto Parlano di partita Iva Mi vogliono Volete fare La due diligence Su Su Widealf Perché mi sono arrivati Anche dei messaggi Di questo tipo Fatela una camper 2 Fate Fate la due diligence Fate il cazzo Che volete Io Mi ci sciacquo I coglioni Con le vostre cazzatine Ok Perché io Sono Penso di essere E sono una persona coerente Quindi Se vi rodo il culo Fate il cazzo Che volete Ok Ma io Me ne sciacquerò Sempre il cazzo E le palle Uomo E basta Lo sigare Fatevi I cazzi vostri Eh Che ho dovuto sentire Ah la roba di Joker L'abbiamo portata Prima noi Ma Vaffanculo Testa di cazzo L'abbiamo portata Io e palle Uomo L'ha portata Il cerbero Ma che cazzo Avete portato Testa di cazzo Non lo so Non lo so ancora Lupo Non ho ancora Andato ufficiale Non ho avuto tempo Sti giorni Mi fanno sapere Reattivo gli alert Scusate Ogni tanto disattivo Perché se no Si capisce un cazzo Va bene Vado avanti Andiamo avanti a sentire La testimonianza In mio possesso Che poi sono in possesso Di tutti quelli E degli altri Che come me Hanno subito Questa truffa Perché di truffa Si tratta E quindi Molto semplicemente Parlo di quella Che è la mia Esperienza Con il soggetto Poi Certo Mi sono arrivate Mi sono arrivati Tanti altri rumors Di situazioni Simili Simili Non sono io Che devo fare i processi Ecco Io devo solo portare I dati E la mia esperienza No meglio Ci interessano Ma vanno supportati Da 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 Come in questo caso Ci interessano Ma vanno sempre supportati Esatto Assolutamente E tu appunto Parli di truffa Quindi in mano Hai una sentenza Giusto Poi entreremo Nello specifico Io ho una Ho una sentenza Capite Ecco adesso La fa vedere in parte Poi non so se a fine video Se l'hai editato Questa è carta che canta Ok Matteo Saba Può Blaterare E dire quello Che cazzo gli pare Ma questa è carta Che canta Quindi Zitti Punto Non voi In generale Tutti i piccoli Minion Sabini Eh Tutti i piccoli Gnometti Che si porta dietro Devono solo che stare zitti Perché il loro eroe È caduto È finita la pacchia Teste di cazzo Buonasera Ricky È finita la pacchia Questo Questa è la fossa Mediatica Ok È chiaro Qui non si discute Su questo Perché c'è scritto Tribunale di Torino Qui la giustizia Che parla Ok Il re è nudo Bravo Torelli Tra poco arriva Torino Eh venisse a Torino L'ho detto C'è la mola Antonelliana I faccio la Cicerone Oggi Porto a vedere I più bei posti Lo porto sotto il ponte Di Corso Regina Dove ho passato La mia infanzia Facendo graffiti E fumandomi I gran cannoni Ha capito Matteo Saba Le faccio rivivere La mia infanzia Con di sottofondo Baba Man Eh Sto scherzando Comunque Stavo dicendo Ospite a casa mia Ovviamente Ufficialmente invitato L'è ufficialmente invitato A starmi fuori Anzi Tornando serie Ufficialmente invitato Il signor Matteo Saba A stare fuori dai paraggi E io lo dico Questa è una minaccia Questa è un avvertimento Fuori dai miei paraggi Sia mai che qualcuno L'avesse passata Perché io chiamo Le forze dell'ordine Ma me frega un cazzo Cioè io non Non discuto Con certe persone Sia chiaro Comunque Stavo dicendo Qui È carta che canta Poi lui si può inventare Quello che vuole Ok Mi può querelare Può querelare Mi può querelare Il cazzo che vuole Ma questo È fattuale Ok Andiamo avanti Del tribunale di Torino Con una Sì sì Inizio così Se cazzo me ne frega Io Ripeto Non mi macchio Di reati Non sono una persona violenta Oggi ho flexato I bicipiti Nelle mie storie di Instagram Ma solo perché diceva Che mi facevo Grossi in palestra Ma io È tutta fuffa ragazzi Io sono veramente Un fuffa Tutto finto Buonasera La favela Condanna Ovviamente per truffa Con tutto uno storico Quindi uno storico Che si è sviluppato Nel corso degli anni È stata una vicenda Molto lunga Nel senso che Noi abbiamo Sporto denuncia È quello che sta Grazie per il centro Sebastian Ma io ricordo che qualcuno Forse Lup Disse che avevano chiamato Agli avvocati Bonelli a Roma Dove diceva di essere cliente E non sapevano chi era Non lo hanno fatto vedere No questa parte di Bonelli Non è stata fatta vedere Neanche dal Cerbero Ma ci sono un po' di raccune Nel senso C'erano cose che non sono state trattate Oggi a quello che ho capito Il Cerbero Si è voluto concentrare su questo Perché non si mistificasse Non si mettesse Troppa carne al fuoco Che è sbagliato Un po' come noi L'altra sala Abbiamo voluto concentrarci E poi vi parlerò anche di questo Perché appunto Ieri sera abbiamo scritto Ivan Greco in privato Vi spiegherò anche Che cosa è successo con Ivan Ci siamo voluti concentrare Sulla questione Liccardo Ivan Mattosava Adesso Liccardo Adesso che c'era di mezzo Quella roba di Liccardo Però capite E per non mettere Più metti Carne sul fuoco Più poi si perde il punto Quindi in realtà In realtà non se ne è parlato Per quel motivo Suppongo Ok? Andiamo avanti Ciao Gizete Un episodio Che adesso racconterò Poi la vicenda È andata avanti per anni È stato cambiato Diciamo Il territorio di competenza Quindi dal Tribunale di Minano È passato dal Tribunale di Torino Lì si è un po' tutto arenato Per tantissimo tempo E tant'è vero Che abbiamo rischiato Di non andare a giudizio Ok quindi come hai conosciuto Matteo Sabba Dove Quando Perché Allora l'ho conosciuto A Miami Perché la nostra azienda Ha una sede a Miami Dove io andavo spesso Andavo due volte all'anno In quel periodo Andavo due volte all'anno L'abbiamo conosciuto Credo che sia stato 2011 Adesso non mi ricordo Adesso non ho delle date Molto precise Perché è passato Veramente molto tempo Però mi pare fosse Il 2011 Sì c'è anche la questione Unicredit Come ci ricorda Serpentello Però Adesso io Ho solo questo Anche perché è uscito Solo questo Il Cerebro Io porto solo le cose Che sono uscite Per rispetto anche Del lavoro del Cerebro Che immagino Che poi ripubblicherà la live Magari domani Io tanto allora Ho intenzione domani Di fare un'ultima live In cui Anzi Se mi volete dare una mano Ragazzi Se avete le clip Qualcuno Roger Se c'è qualche moderatore In chat In chat In chat Mi può spammare Volevo vedere Chi c'era dei mod Sicuramente c'è qualcuno Che può spammarmi Il gruppo link Ho aperto il gruppo link Anzi Se vuoi farmi anche il comando Roger mi fai un favore Il gruppo link Stupefatto Potete mandarmi tutti i link Grazie DJ Grazie per la sabina Se avete clip Ciao sono Matteo Ho preso controllo Dell'account di DJ Ti aspetto sotto Mi aspetti a lungo allora Mi potete mandare tutti i clip Se avete raccolto clip Di questa giornata di Matteo Roba su di me Io domani volevo cercare Se riesco a raccogliere materiale Entro domani Di rispondere a varie cazzatine Che mi sono state Mandate Wide fami mod pure a me Allora Per i mod Scrivetemi in privato Se volete diventare mod A me mi servirebbero Un altro paio di mod A dirla tutta Perché magari quando manca qualcuno Però scrivetemi in privato Così parliamo un attimo Capiamo un attimo Perché ovviamente Mi devo anche un po' fidare di voi Quindi Chi avesse link Clip Poi delle live di Matteo Di questi giorni Perché di me ha parlato Comunque in parte Ho sentito In parte no Me le mandate nel gruppo link Quindi Se ti iscrivo in privato Mi caghi Cerco di farlo ragazzi C'è tanta gente Ultimamente mi ha scritto Un po' di gente Per vari motivi Il suonatore senza moda Ma datemi i link del gruppo link Che non sono moderatore Non riesco a recuperarlo Te lo mando adesso in privato Roger su Telegram Datemi un secondo Che faccio sta cosa così Perché bisogna rispondere Anche a varie cose Perché adesso noi ci siamo Concentrati su Matteo E non su quello che è stato Letto su di me Ma ripeto Purtroppo di cose ce ne sono Allora No questo è il gruppo mod Link 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 Gruppo link Eccolo qua In realtà lo potete trovare Anche sul gruppo Telegram Però Facciamo così Allora Link Copia link E lo mandiamo A Rogerino Ok L'ultimo che ti ho mandato C'è un altro link Prima Roger Ma è l'ultimo che ti ho mandato Ah no ma forse è lo stesso Tra l'altro Va bene Comunque Quelle link Spammamelo in chat Chiunque può entrare Per favore Mandate solo link Mi raccomando E se avete tutte le clip Su Matteo Riguardanti Soprattutto me Diciamo così Me ne mandate in privato Lì Cioè in privato Lì sul gruppo Poi se volete contattarmi in privato Perché sono per la roba dei mod Potete anche farlo Spero di riuscire a rispondervi A tutto A tutto e tutti Andiamo avanti Andiamo avanti Non mi ricordo Non mi ricordo se novembre o marzo Che erano i due periodi In cui io andavo Sostanzialmente a Miami All'interno di una festa Un pool party Che c'era Credo vicino In un hotel Insomma con altri Eravamo un po' di colleghi Dell'azienda E Un nostro Uno dei nostri colleghi Si è avvicinato Quindi non l'ho conosciuto io per primo Si è avvicinato Poi piano piano È entrato Diciamo Dentro Giro di conoscenze Ok In che modo poi siete arrivati Insomma A questa sentenza Come è stato il trascorso Ma vabbè Diciamo Lui poi Si è venduto Come un grande imprenditore Con un Gador ha fila tutto liscio Questo è quello che ha raccontato a noi Certo Grande imprenditore Con All'epoca raccontava Di avere una proprietà Un dei grandi successos Cases Successful Cases Adesso sono imparato A pronunciare Successful Cases Ci ha Tuttora Di grandi successos Cases Al Setai Questo hotel molto famoso Di Miami Viaggiava Ovviamente già all'epoca In prima classe Insomma Vantava Diciamo Da parte familiare Anche una provenienza In ambito ristorativo Di ristorazione Quindi Con grandi successi E poi da lì Tornati a Milano La frequentazione È continuata Quindi Abbiamo continuato A vederci Ma fino ad arrivare A giocare Partite di calcetto Insieme Cene Cene molto conviviali Quindi diciamo Situazioni di Viaggi insieme Cene insieme Tutte cose No? Un po' come fa con tutti Come ha fatto con Anima Tutte queste cose qua Insomma Diciamo così Soltivazioni di amicizia Normalissime Dopodiché siamo Arrivati a Una possibilità Di fare un investimento Su Miami Per aprire Una paninoteca Diciamo Chiamiamola Una paninoteca Gourmet All'epoca Che stava Per aprire a Milano E quindi Noi avevamo Avevamo Diciamo Fatto una serie Di incontri Per Avere la possibilità Di aprire questa Paninoteca Gourmet A Miami Negli Stati Uniti E quindi Cominciare da Miami Cioè Era una catena Scusate Non stavo guardando I riscatti Li mando Due bacini Scusate se mi perdo I riscatti Ma anche quelli Dovrei cominciare a togliere Faccio difficoltà Adesso magari Non so Magari fra due giorni Faccio di nuovo Trenta spettatori Come all'inizio Però Se i giorni che siamo Un po' più alti Come media Faccio difficoltà a starvi dietro Vi chiedo scusa Sia Se leggo meno la chat Sia se magari Mi perdo qualche riscatto Vi chiedo scusa Non mi sta dando Il successo Il successo Non mi sta dando la testa Non vi preoccupate Con una sede Se di successo Si può parlare No Beh Intanto Intanto Era Allora L'idea L'idea di chi deteneva il marchio Era di Probabilmente di fare una catena E farla diventare Che è proprio quello che fanno tutti No Cioè Oggi I business di quel tipo Devono diventare I moltiplicabili E scalabili Quindi queste sono le due Diciamo Identità Che contraddistinguono I business di questo tipo Noi Nella fattispecie Avevamo valutato La possibilità Di cominciare Ad aprire Negli Stati Uniti Quindi a Miami Poi ripeto Andandoci spesso Per lavoro Magari era anche Una piccola Una piccola Una piccola paninoteca Altospendente Volevano aprire La possibilità Di mettere Un piede Ok C'è Roger Che sta mettendo Il comando Per Gruppo Link Ecco Punto scambativo Gruppo Link Lì potete unirvi Mi raccomando Insomma Chi Chiaramente Chi è interessato Unitevi al Gruppo Link Perché è molto importante Così potete Adesso Per quanto riguarda Magari domani Cercate di Focalizzarvi Sulla roba di Matteo Saba Poi nelle prossime Insomma Andando avanti Se volete mandarmi link Proporvi contenuti Io me li guardo In modo tale Non arrivare in live Che me li mandate In privato Che io non li ho visionati E magari mi faccio anche Qualche figuretta di merda Perché magari Non so di cosa si parla Quindi è importante Mandatemi link Chi vuole unirsi È libero a tutti Non scrivete Mandate solo link Cerchiamo di non farlo diventare Un ennesimo gruppo Da 200.000 messaggi al giorno Ok Grazie mille Grazie per la compressione La comunicazione è finita Andiamo avanti Dal punto di vista Imprenditoriale Per poter poi seguire L'attività Quindi spunta questa possibilità E si propone lui Decidete di comune Ecco Lui si propone Lui si propone Chiedendo di mantenere Anche il 51% Della società Quindi noi eravamo Al 49% Tutti gli altri soci Si fanno Tutta una serie Di riunioni Si decide Insomma Quello che doveva essere Il capitale Da versare Per inciso Lui il suo 51% Ovviamente Non l'ha mai versato Quindi già questo È un elemento Molto importante Rispetto a tutto Quello che è la vicenda Mentre invece noi Sto parlando di noi Perché siamo Dall'altra parte Siamo circa Non mi ricordo Se sei o sette persone Versiamo il 49% Del capitale A lui Al soggetto A Matteo Saba Il soggetto è Matteo Saba Ovviamente Firmando dei documenti Relativi A un term sheet Un agreement Insomma Quelli che sono i documenti Che poi di fatto Lui avrebbe dovuto Depositare A Miami Tra l'altro Noi poi Andando Posso dire una cosa Che mi è venuta in mente Leggendo Serpentello Perché me lo ricordo All'epoca Sono Pippega Ho citato il Pippega Sì So chi è in realtà È tutta una gag E quando faccio chi È tutta una gag Ehm C'è questo Ha cagato il cazzo A Pippega Per c Ah ah Chiruccia Per 500 euro Per E poi Dobbiamo sentire Queste cifre Vi rendete conto Eh Maggio Mafia Un bacino Per il suo compleanno Io lo mando Un bacino A tanti auguri Mafia ATK Ehm Comunque Mi ricordo Mi ricordo Quest'estate Eh 500 euro Velocci Bel meme Bel meme E poi Altro che 500 euro Manco la mancia Manco la mancia Anche a Miami Avevamo la possibilità Anche eventualmente Poi di Eh Vedere fisicamente Questa cosa Verifica in loco Diciamo Di verificare in loco Quindi ci fa firmare Documenti La cifra era 130k Il 49% Hanno versato Che poi ovviamente Lui Giba Ed altri 5-6 Non ho capito Quanti erano 7 Forse in totale Eh Coinvolti in questa In questo affare Noi scopriamo Solo successivamente Che sono documenti Totalmente Inesistenti Cioè Documenti che lui In realtà Non ha mai depositato Ma effettivamente Lui apre una società Apre una società Con questo capitale Non deposita neanche I documenti Apre la società Sato da voi Eh sì La light scattering Una società Mi ricordo anche il nome Eh Apre una società Con questo capitale Versato da noi E Dopodiché lui va La cifra Tra ricordi? Fa un 130.000 euro Totali Ok Lo ripeto anche 130.000 euro Eh allora Mr. Marra Che è tutta Sta monetizzazione Oh ma io devo Stroccare il contenuto Ma che siamo Impazzi tutte Ste pubblicità Che vergogna Divisa per 6-7 Diviso per 6-7 C'aveva messo Qualcosa in più Qualcosa Ok Ognuno aveva una quota Quindi in percentuale Ovviamente Tutti Bonifici Regolarmente Messi Quindi Nulla di oscuro Nulla di Sottobanco Tutto tracciabile Alla luce del sole Anche perché Beh anche perché Era un modo Per essere trasparenti Nei confronti di tutti No Per essere un modo Trasparente Insomma Tra tutti i pochi Visto che si parlava Di 6-7 soci Questa società Dove lui è creata Scusami Sede Sede a Miami A Miami Perfetto Light Catering LLC Quindi Si crea Effettivamente Questa società Voi Top montaggio Di mar Depositate Questo capitale Lui crea Questa società Lui Allora Andiamo imputato Per il diritto Alla l'articola Perché Gli artefici Regioni Costituzioni Presentati Come responsabili Di un'iniziativa Commerciale Nel settore Della ristorazione Ed acquirente Dei diritti relativi Al brand Sfilatino Guarda Subitiva Proicipazione Progetto Eminente Acquisito Dalla parte Sottoscrittore Questa Light Catering International LLC Somma Che in realtà Sottoscritti Non erano Diventati Soci Che il conto Corrente Della società Era stato Zerato E che la società Stessa Sarebbe stata Messa in liquidazione Senza restituzione Ai sottoscritti Dell'importo Delle quote Versate Così Procurando Un ingiusto profitto Con pari danno Dei soggetti Sopraindicati Capite che Ripeto Qui c'è poco La discuta Ragazzi Eh C'è veramente Poco Di cui Disquisire Lo sfilatino Specialo Si Alto spendente Che crea Questa società Crea Questa società Ma in realtà Lui non solo Non versa Il suo 51% All'interno Della società Quello che abbiamo letto Ce lo spiega lui Eh Ma Noi non Compariamo Il tuo Lavoro È guardare Per due ore Video su youtube T'hanno dato Pure la partner Probabilmente Per un errore Burocratico Che spero Venga corretto Tempestivamente Ma te lo vuoi fare Sto abbonamento A youtube Premi un dio cane No In alcun modo All'interno Della società A differenza Di quanto lui Invece ci aveva detto E fatto firmare Documenti Che in realtà Avrebbero dovuto Portarci all'interno Della società Quindi noi Non esistiamo È una società 100% Completamente sua In questo momento Quindi con un capitale Versato da noi E da non da lui Quindi Esattamente un po' Al rovescio Della medaglia Noi mettiamo i soldi E lui si intesta La società Lui va a Miami Mi fa un primo viaggio Ci manda delle foto Di location Mai verificate Ipotetiche Per eventualmente Poter aprire Diciamo Il punto vendita Sei impegnato anche Ha fatto le foto Che è chi altro Che mandava le foto Però non Non delle location Mandava foto di carte E poi dopo Alla fine Si è tenuto i soldi Nulla di fatto Mi ricorda qualcuno Eh? Speriamo che le foto Perlomeno stavolta Non fossero state prese Da qualche sito Ma che l'abbia scattata E perlomeno lui Eh? Foto senza timestamp Esatto Furio L'ha già Ma lei Matteo è proprio Un mugnanese Glielo posso dire Chiamate chi la Chiamate chi la Arca puttana Dopodiché Dopodiché comincia Cominciano a venire Un po' Di dubbi Perché ovviamente Le cose Si prolungano Lui comincia A raccontarci Che ha dei problemi Con la società Che in realtà Le aveva lasciato La licenza Per gli Stati Uniti La società Detentrice Del marchio Sostanzialmente Per una volta Voglio leggere Il commento Del suonatore Eh? Voglio leggerlo Proprio Matteo Saba È solo un Liccardo Con più soldi E probabilmente Qualche vizietto Di troppo E la questione Del vizietto La chiariamo Dopo Adesso Perché dovete Il bello Non è questo Il bello È come se Li è spesi Questi soldi Perché il bello Sta per arrivare Poi ripeto Penso Penso Che Oggi ti guerela Eh me ne farà un'altra Dai Facciamo due guerele Ehm Penso che Sia la parte più divertente Quella dopo Sostanzialmente E E Al che noi gli diciamo Vabbè Allora se non Si fa più nulla Eh Amici come prima Noi ti riconosciamo Giustamente Le spese Che hai sostenuto Eh Eh Rispetto a quelle Che sono I viaggi Il viaggio che hai fatto Lui fece Alla fine feceva un viaggio solo Eh Il viaggio che hai fatto Quindi Eh Questa volta Non viaggi insieme Viaggio da solo Peso 8.000 euro Giustamente Ci prendiamo Il rischio D'impresa Tutto quello che Diciamo Ne rimane Rispetto a quello che Sono I tuoi viaggi Visto che tu Di fatto Sei andato là Poi Se hai lavorato o meno Ci hai mandato delle foto Vere o finte Presunte Quindi diciamo La restituzione Delle quote No Come foto Vere o finte O presunte No ma anche lui Allora Anche lui Senza timestamp La prese E almeno le foto Saranno vere E lui viaggia sempre No Pure le foto Potrebbero essere finte Al netto Di quelle che sono Le spese Che tu hai Sostenuto Perfetto Poi se sei andato Là per l'altro Non è un problema Cioè non è neanche Più un problema Nostro Noi giustamente Ti dovremmo riconoscere Quello che è stato Di fatto il tuo impegno Presunto O reale Facciamo una sorta Di riunione In uno studio legale Di Milano Dove lui Comincia A Diciamo A perdere un po' La brocca Dicendo che No Ok ok Ma Ma no Ma è tutto finto Boh Chiuso il Non è possibile Come Matteo Che perde la brocca Dai Ragazzi Non è verosimile Il racconto E per forza Tutta fuffa Questa Questa è uno Che Ma signor Giba Lei rischia Querela Così Dai Non ci risulta Che Matteo Sia uno Che perde la brocca Dai È tutto finto Palesemente Finto Dai Usciamo da lì Dicendo che Sostanzialmente Lui avrebbe restituito Il capitale Al netto Di quelle che sono Le spese sostenute E da lì Sparisce Da lì Sparisce Nonostante Diversi solleciti Da parte di tutti Sparisce Non c'è abbastanza Enfasi in questa cosa Perché Qua è il punto Qui sparisce Ok ok Ne usciamo da lì Dicendo che Sostanzialmente Lui avrebbe restituito Il capitale Al netto Di quelle che sono Le spese sostenute E da lì Sparisce Da lì Sparisce Come Un Mugnanese Qualsiasi Adesso stare attento Perché tutta la città Di Mugnano Adesso Prima o poi Mi querelerà Veramente C'è lui Sparisce Come un gobbo Come un gobbo Qualunque Capite Matteo Saba The President Club Colui Che punisce Tutti I fuffaguro Tutte le teste Di cazzo Che provano A fotterle Le persone Lui Sparisce Volatilizzato Esatto Ma ci rendiamo conto Ragazzi Ma fino a un mese fa Ma ne avreste mai detto? Qualcuno dirà di sì Io lo sapevo Il Presidente Lui Lui L'uomo di tutto Di un pezzo Che non si fa sfuggire Nulla L'uomo L'uomo Che parlava I fuffaguro Anzi Che urlava I fuffaguro E parlava Questa è una citazione Siccome qualcuno Ieri sanno Non ha capito La citazione Al film Tutti gli uomini Del Presidente La spiego Non vorrei mai Che ci rendiamo conto Credibile Come cambiano le cose Su internet Da un giorno all'altro Si ribalta Nonostante diversi solleciti Da parte di tutti Sparisce Io Andando a Miami Per lavoro Molto spesso Comincio Tutta una serie Di indagini Perché giustamente Non è che Stavo le mani in mano Cioè Uno sparisce Con i tuoi soldi Che hai versato Dici Fammi capire Cosa è successo C'è qualcosa Che non torna In qualche modo Il capitale Che poi Era il 70% L'80% Il 73% L'82% Sarebbe dovuto tornare Esattamente Da dove è arrivato Mi muovo su Miami E riesco a scoprire Sostanzialmente Qual è l'ufficio Di commercialisti Che gestisce Diciamo Che ha in pancia Questa società Purtroppo per lui Riesco a recuperare Gli estratti conto Delle carte di credito Della light catering E lì E lì vengo a scoprire Precupero Quindi Lui Sa I movimenti bancari A questo punto E adesso viene il bello Ragazzi Dopo Ubernout Dopo Dopo ne parliamo Da questo Ivan Greco Dopo questa storia qua Cioè lui Riesce a avere I movimenti E adesso Ragazzi Adesso si gode E adesso si gode Aguzzate Aguzzate L'udito Adesso si è la vista Facciamo l'udito Per chi Non avesse già Sentito dal cerbero 6 7 8 Mesi Di estratti conto E tramite Una società Alla quale Mi affido Recupero Gli estratti conto E ovviamente Che cosa scopro Scopro che No Di credito americana Al principe di Savoia Da Bulgari Noleggio auto Riascoltiamo Vedendo tutti i nostri soldi In Italia Con una carta di credito Si spende in Italia Vedito americana Al principe di Savoia Da Bulgari Noleggio auto 3.000 euro di noleggio auto Massaggi di qua Cene di là Cene di Ah pure i massaggi Ma sapete La cosa più grave Che quelli con happy ending Costano pure di più Quindi occhio Sto scherzando Ovviamente Tutta una piccola gag Signore di Twitch Mi dissocio Mi dissocio Pure i massaggi Imbazzuto completamente Imbazzuto Cene di giù Poi scopro anche che Ovviamente Quelle sere Che è capitato Che siamo andati a cena Sostanzialmente Pagavamo noi Perché praticamente E ci stava pure Cioè nel senso No ma se tu sei L'amministratore delegato E diciamo E porti Un ritorno E hai Diciamo L'amministrazione Ci sta anche Cioè io ho altre O altre società Quindi il mio amministratore Se andiamo fuori a cena Certo che paga lui Ecco i soldi della società Ma ci sta anche Ma se lo sai È un conto Se non lo sai È un po' diverso Quindi riesci A scoprire questi movimenti Questo capitale sociale Che insomma Era stato utilizzato Per altro Sono solo Movimenti Di 7-8 mesi Relativi a tutte Le sue spese Che lui faceva In Italia Adesso qualcuna Mi sembra Qualcuna in Europa Puglia aerei Quindi considerate Che viaggiando in business Ogni volta Erano magari 3-4 mila Aerei La macchina Noleggio 3 mila euro Perché magari Te la tenevi un po' di tempo Finiscono in fretta Finiscono in fretta Finiscono abbastanza Velocemente Ok Quindi Che decidete di fare Lì decidiamo Di metterci insieme Di fare ovviamente Di sporgere Denuncia penale Ci affidiamo Ma io poi Ma questa è proprio Una di quelle cose Che Adesso parliamo del 2011 Quindi ovviamente È un altro presidente No? Un giovane presidente 2011 Se Matteo adesso Metti che avrà Adesso non so quanti Andiamo Una trentina d'anni Togliamogli Una decina Facciamo tutto approssimato Una decina Avrà avuto una ventina d'anni 20 22 25 Che cazzo ne so io 36 Avrà avuti 25 Dai 25 anni Era un giovane Un giovane presidente Ma io dico Ma come cazzo 26 ne aveva Ok Ma come cazzo Pensi Che la gente Non Cioè perché lui Sperava forse Che non gli sgrabbi Perché lui dice Fortunatamente Sono riuscito A recuperare I spostamenti bancari Cioè ma lui pensava Di passarla lì Cioè questa è roba Fatta meglio Perché con altri numeri Ma veramente L'Aliccardo Cioè perché tu pensi Che poi la gente Si faccia Prendere i soldi E no Ha perso Adesso Divisa per sé 136.000 euro 130.000 euro Così no Sì sì 26 ho capito Così E nessuno dice un cazzo No ovviamente Era un vice presidente Esatto Cosa ci fa Mimmo qua Scusi Ma non deve Sta lavorando Mimmo Mimmo Cosa fa Ah già staccato Incredibile Lo stacco più veloce Del west Eeeh È finita la live Piantina Ok Poi parliamo di Riccardo Perché Riccardo Ora si guarda le mie live Ragazzi Poi vi faccio vedere Ieri si è fatta La sfuriata con Ivan Greco Dopo ci divertiamo Perché Riccardo Si guarda le mie live Ormai Eh Non è più come una volta Riccardo Eh Non sono più una piantina Mo' sono diventato Una pianta Sono un olmo Sono Che è anche il mio Secondo nome ragazzi Olmo Pensa un po' Riccardo Non so se mi stai ascoltando Ma io Come secondo nome Faccio olmo Faccio olmo Di secondo nome Quindi c'è il proprio Azzeccato Sulla piantina Veramente Un cactus Esatto Perché Dopo vi spiego Perché dico che Guarda le mie Live Dopo ve lo faccio vedere Va bene Andiamo avanti Scusate A un avvocato Io Cioè diciamo Io sono quello che Emette la denuncia Con altri Ma non c'è Perché bisogna mettere Un nome E poi gli altri Non è che sono io In realtà è una decisione Congiunta È stato messo il mio nome In cima Per una questione Proprio di Semplificazione E E quindi Sporgiamo denuncia Il tribunale Di Milano Presso il tribunale Di Milano Quindi Aspetta Perché poi Matteo Pare che Nella sua live Parlasse Il tribunale Di Milano Cercando di Smentire Allora qui Lo dice anche Giba Parla del tribunale Di Milano Dice Allora qui Adesso ve lo dirà Ve lo spoiler Che approvano Il tribunale Di Milano Ma Aspettate un po' Perché qui Tutta l'argomentazione Di Matteo Forse è già smontata Adesso io non ho seguito La live di Matteo Quindi Prendete le mie parole Per quello che sono Però Attenzione Inizia Milano E finisce Torino Bravo Scicox Adesso sentiamo Decide che il foro competente Non è Milano Ma è Torino Perché lui Sostanzialmente Era È residente a Torino Originario Residente Adesso non mi ricordo Forse Tornato a casa Se oggi è venuto Quattro rite È tornato a casa Signor Matteo È tornato a casa Nel bel Piemonte È stasera Matteo Stasera ci andiamo a mangiare Una bella bagna cauda Eh Ci andiamo a mangiare Una bella bagna cauda E due acciughine al verde Solo io e te Allume di candela Non so Non so Non so Non so fare l'accento Ma i termini Il Piemontese Purtroppo Ne Ci andiamo a prendere Un bel bunet Io e te Solo io e te Matteuccio Avanti dai Presidente o domiciliato In provincia Sai fare l'accento Ma lo fai da donna Ma sai perché? Perché mi viene quello Della litizzetto Non mi viene quello lì Non so che Non so Non so che dirti Suonatore Devi fare un po' l'S Devi fare l'S così E finire Aprire tutte le E Alla fine Veneto anche Sembra così Va bene Andiamo avanti Dai In provincia di Torino E quindi con un'accezione Presidente Adesso non mi ricordo Forse residente o domiciliato In provincia di Torino E quindi con un'accezione Molto astuta Il suo avvocato A dell'epoca Fa spostare il processo La competenza Quindi questo Ovviamente Già allunga Di molto I tempi Esatto Dopodiché Il nulla assoluto Dal tribunale di Torino Per anni Nonostante I nostri Solleciti Solleciti nostri Intendo quelli Dei nostri Dei nostri Ciao palle Ciao palle Godiamo Godiamo Palle Se poi vuoi passare Sul discord Magari quando parliamo Di Ivan Puoi entrare O dopo Ti vedo ora in chat Fino a che non si arriva Finalmente Insomma Alle udienze finali Al limite Della prescrizione Che è quello Sostanzialmente A cui lui puntava Perché Ovviamente Questo non lo dico Io lo dicono le carte Una difesa Praticamente nulla Anche perché L'unica difesa Che hai È puntare alla prescrizione Ma tra l'altro Questa è una cosa Che ci ha detto Addirittura il suo avvocato Io solo la prescrizione Io posso solo puntare Alla prescrizione Fa il suo lavoro Giustamente Certo Perché Diciamo Scuola Scuola Ghedini Insomma L'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto Benissimo Però Si è dimenticato Di Diciamo In tutti quelli Che sono Chissà che avvocato era Sarà quella Dello studio Non lo sappiamo Non lo sapremo Sono stati I pagamenti Dentro i termini Di questo pagamento Si era dimenticato Di una Piccola Piccolissima Spesa Bonità In ultima In ultima stanza Di 250 euro Quindi per 250 euro Lui è ancora Dentro i termini Sostanzialmente Di tutto Questa cosa Per una scena Sì Ma non mi era accorto Guarda top copertina La Liccardo Nella live di Omni È tolta Guarda il carino Marra con la copertina Patatino Papino Patatino E poi io chiamo Lui papà Chiamo Liccardo papà Io ho troppi papà Su Twitch Ormai Sono un po' confuso Meno male che a casa Devo uno solo Perché ci avessi tutti Questi papà Che girano a casa Direi mia madre Sei proprio una troia Sto scherzando Ma scherzando Ma ti saluto Però Se fossero tutti questi papà Non si capisce un cazzo Sinceramente A chi su fighe io Non lo conosco Il mio papà Non so chi sia Andiamo avanti Per una cena Per una cena Quindi diciamo Sfortunato In questo senso Nel senso che Aveva quasi Compiuto il delitto perfetto Purtroppo per lui Non è andata così E dopodiché C'è una sentenza Adesso non mi ricordo Credo che la richiesta Del PM Due anni poi Credo che sia stata Di nove mesi Una cosa del genere Allora Conclusione delle parole Mesi 10 Reclusione a 900 euro Di multa Previo riconoscimento Delle circostanze Attenuate generiche Equivalenti alla recidiva Parti civili Affermare la responsabilità penale Perché poi Non l'ha fatta vedere Il cerbo Grande lave del cerbo Sono mancati un po' E la richiesta del PM Certo Ovvio 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 Il PM C'è pure scritto Affermare la responsabilità Della penale Imputato Per il reato Lui ha scritto Condonare la pena Di legge Oltre al risarcimento Del danno E alla rifusione Delle spese legali Da concludere La scritta No è gravissimo Ragazzi La richiesta Poi sono diventati 9 Ok Ma l'ha fatta vedere O me la son persa io La sentenza È 9 mesi Quella è la richiesta Del PM Sì sì ragazzi L'ho detto L'ho detto L'ho detto Ovviamente Fate bene Fateme bene a dirmelo Perché come vi ho già detto Io ne ho in legge Sia super ferrato Quindi leggo E poi capisco un po' Difesa Questa è la difesa In principale La soluzione Dell'imputato Per il fatto Non sussista In subordio Deve escludere Il carattere Riterato Vabbè Poi qui dopo Non si legge più Vabbè Comunque C'è il numero Di sentenza C'è tutto La richiesta Mi ricordo Che era 2 anni Poi mi sembra Che sono stati tramutati 9 mesi E qualche interdizione Da pubblico ufficio Le solite cose Alla pena Alla pena Di anni 2 E mesi 10 Di reclusione E 900 euro Di multa Previo Comunque C'è anche La richiesta Il PM Ragazzi Uscimento Delle circostanze Attenuanti Generiche Equivalenti Alla recidiva Ok Ok Motivo Perché aveva la recidiva No ma hanno fatto vedere No Magari ho seguito male io Infatti l'ho detto prima Non voglio Di cose che Ma hanno fatto vedere Proprio poi Proprio Perché qui Si vede scorrere Dei pezzettini In live Hanno fatto vedere Proprio Voi che magari avete seguito Hanno fatto vedere Proprio i fogli Cioè completi Tutte le sentenze O no Perché forse me lo sono perso Sì Ah ok Allora chiedo Venia Me lo sono perso io No infatti l'ho detto prima E non so Magari me lo sono perso Ok ok Allora chiedo Venia Chiedo Venia Per altri episodi Dunque è sotto Credo che quella che hai letto Tu sia la richiesta del PM Poi in realtà Poi me le rimandi Tanto le metto in allegato Sì La pena è differente Da quella che è la richiesta Del PM Però comunque è stato Diciamo Considerato Colpevole Quindi questo è un po' Questa è un po' la mia vicenda Ma perché dico queste cose Perché siccome quando mi avete girato Alcune delle vostre dirette Dove ho visto che Insomma Sono state dette Poi nella cacciara Molto spesso si dicono cose Non nella cacciara vostra Nella cacciara generale Si dicono cose Non sempre precisissime Ecco in questo caso Le informazioni Che io sto dando Sono informazioni Totalmente Incontrovertibili Cioè non c'è La possibilità di dire Non è andata così Si è andata così Cioè non è che dici No ma io non sono così No io sono verde No ma tu dici che sono già Sì sì ho letto Della recidiva Ho letto Dragonals Però mi piacerebbe Leggerli bene Questi documenti Off live E poi dopo magari Ne possiamo anche parlare Eh? Ragazzi Riascoltiamolo un attimo Perché sia chiaro Ha tutte quelle teste di cazzo Piccoli sabbini Eh? Piccoli Minions di Saba Che ancora hanno il coraggio Di parlare Riascoltiamo le parole di Giba Perché sono sacrosanti Si è andata così Cioè non è che dici Che io sto dando Sono informazioni Totalmente Incontrovertibili Cioè non c'è La possibilità di dire Non è andata così Si è andata così Cioè non è che dici No ma io non sono così No io sono verde No ma tu dici che sono giallo No Questi sono i fatti Ricostruiti dalla procura Di fronte a un tribunale Con una sentenza Con carta alla mano Quindi tutto quello Che io sto esponendo In questo momento A te A voi È tutto quello Che realmente È accaduto È come se io stessi raccontando Un fatto storico Si 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 Quindi non c'è Non c'è la mia Chiaro? Chiaro teste di cazzo? È chiaro? Bell Ho sentito un sì Per quello ho detto Bell Non c'è il mio punto di vista Sulla persona Non c'è il mio punto di vista Su altre vicende Presunte O reali Della persona Non è di mio interesse Questa è la mia Vicenda E È una vicenda Che è andata Esattamente Così Come ve l'ho descritto Quindi c'è poco da Non c'è niente da sindacare Ecco Questo per essere chiari No 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 Ma infatti Qualunque persona Venga a dire No perché io ho fatto No perché tu hai fatto No E se hai preso i soldi Avresti dovuto restituirli Non li hai mai restituiti E quindi ovviamente Siamo andati a processo Chiaro Molto semplice Io vorrei sapere Perché tu Matteo Devi rispondere a questa cosa Hai capito Tira fuori qui Coglioncini presidenziali Tutti belli dorati Eh E devi rispondere a questa domanda A questa domanda E non devi Dirci Trovate tutto sul mio profilo Instagram Devi rispondere a questo E come rispondi Io vorrei sapere Davanti a un'evidenza tale Com'è che rispondi Vai a querelare pure lui Come vuoi fare con me Milite Eh Sì esatto al cazzo Lui basta tempo a parlare Dei portachiavi Ce ne sciacquiamo il cazzo Non ti attaccare A ste cazzatine Portachiavi Di quello Le cose A noi adesso Questo ci interessa Tutto il resto Non conta un cazzo C'è conta ovviamente Ma noi Ci devi rispondere A questo Punto Non ce ne frega il cazzo Del portachiavi Di quelle stronzatine Che ti devi inventare La laurea Noi vogliamo che rispondi A questo Adesso Davanti a questa evidenza Che cazzo hai da dire Con quale coraggio Hai aperto Grazie per l'euro Fatti incontrovertibili Fatti incontrovertibili Fatti incontrovertibili Fatti incontrovertibili Ricordiamolo Tutto il resto E noia Bravi Oddio Non so chi abbia ragione Qui Ma lui non deve rispondere Su nulla a te No Squeo Allora dire Oddio Non so chi abbia ragione Qui Ma vedi Vedi che Squeo Io non lo so Magari non ha neanche mai Seguito la storia Se vuoi dire Eccolo il sabino Allora A me no Non a me Lo deve dare A tutti noi A tutti quelli Che l'hanno ascoltato In questi mesi A tutti quelli Che come me Ci sono anche fidati di lui O quelli come il Cerbero Che l'hanno ospitato in live Per la questione anima Che gli hanno dato spazio E visibilità Ce lo deve Sì Ce lo deve Caro squa Come si chiama Ce lo deve assolutamente E non so chi ha ragione Proprio per quello Che ha appena adorato Pierre Che sono incontrovertibili E quello Qui non c'è ragione O torto Qui c'è un cazzo Di tribunale Che si è espresso Teste di cazzo Insinui Ok Punto Fine Lui Si è intascato 130.000 euro Da questi signori Non gliela mai Ridati E c'è una sentenza Qui Non si discute Ok È chiaro Punto Fine Dopodiché Matteo potrà dire Le sue cose Ma perché Non è andato a dirle In live oggi Perché non ha tirato fuori I suoi palloncini Presidenziali E non è andato lì A dirle cose Perché Perché Non l'ha fatto Perché ha sempre Presenziato Ad ogni live Sempre Tranne oggi Ma voi Ma avete il cervello Bacchato Eh Avete il cervello Cioè Voi vi fate Pighiare per il culo Da questo tipo No ma io Infatti l'ho detto Ecco Allora Se la segue bene Squaio Quindi Quello che voglio dire È che Non vi fate Mangiare la testa Da queste persone Perché Adesso Voglio dire A me mi avete detto Che io me so Venduto a Mattosaba E tutte quelle cose Di Però nel momento in cui Cioè Se fossi veramente No Lo schiavo di Mattosaba A questo punto Però se mi metti Davanti delle prove così Ma io anche Non volessi fidarmi Ma che cazzo Devo dire Io vorrei sentire Tutti quei bambaccioni Che gli stanno dietro Che cazzo Hanno da dire Quei pupazzetti Che cosa hanno da dire Ora Davanti a questa evidenza Queste sono C'è carta che canta Non si discute Non è Quelle cazzatine Che si commentano Tutti i giorni Su cui uno può aprire Delle discussioni Qua è così Punto È giusto o sbagliato Qui non c'è ragione o torto Qui c'è Colpevole e innocente Ok È ben diverso Da ragione o torto Colpevole o innocente E qui Io vedo solo la parola Colpevole Punto Poi se volete continuare A farvi prendere Non parlo con squai Adesso dico in generale Se volete far prendere Per il culo Fatevi prendere per il culo Se ogni parola Che esce dalla sua bocca È oro colato Per voi Oro colato No colato Dai lingotti Oro in lingotti Prendete per loro in lingotti Le sue parole Però queste Queste sono Prove Squai Com'è che si chiama Squai Squai Non ho letto Sono prove Incontroverdibili Punto E oro grezzo Allora chiedo scusa Oggi è entrato in live Con l'ingotto Per cui Per cui Eh Cazzo è limone E la finiamo qua Allora Intanto andiamo avanti Io Ripeto Grande lavoro Di Marra In questo caso Veramente Ho goduto Come diceva Palle Uomo Ho imbiancato le pareti Devo dire che Mi sono pure mutato Abbiamo fatto il watch party Oggi su Discord Mi sono pure mutato Perché questa parte Me la volevo proprio godere E me la sono Goduta Ma andiamo Avanti Andiamo avanti Allora Adesso Abbiamo una prova Incontrovertibile Abbiamo una prova Incontrovertibile Che Liccardo Si guardi le mie live Perché guardate Cosa succede Subito dopo Alla nostra live Di ieri Nel canale Di Liccardo Rosario Live di ieri Ragazzi Fate punto Su un attivo YouTube Se non stasera Domani pubblico Pubblico la live Di ieri Con Palle Uomo Dove parliamo Degli uomini Del presidente Ok Ciao Jodil Quindi Però A proposito di questo Appunto C'è punto che si dico YouTube Potete accedervi Iscrivetevi Mi raccomando Dobbiamo arrivare Almeno a 1000 iscritti Dobbiamo arrivarci Che sennò veramente Una bassa ospendenza Così è vergognosa Ma andiamo a vedere Dopo la live Dove abbiamo parlato Perché nella live Adesso ve lo dico Per chi se la fosse persa Ieri sera Abbiamo fatto ascoltare Un pezzo Il pezzo In cui Due anni fa Ivan Grieco Ah le fake news Esatto Dove Ivan Grieco Accusava O comunque Non accusava Anzi no Perché io torno indietro Non accusava Diceva che un informatore Gli aveva Grazie Gheimaru A Maxchef Ah beh Un moderatore senza salvo Effettivamente non si può vedere Grazie mille Gheimaru Non accusava di nuovo Stavo dicendo di nuovo Non accusava Diceva che un informatore Gli avesse passato L'informazione Che la famiglia di Riccardo Avesse Fosse in qualche modo Con l'USA Con la mafia Ok E che ci fosse stata Un'interrogazione parlamentare Riccardo Ovviamente Se vi sta la di ieri Perché guardate qua Guardate qua Hai ragione Gheimaru Hai ragione Niente mod nudi Ma nessuno dovrebbe essere nuda In questa chat Ragazzi Vedo tanta gente Col premino Dai che dobbiamo arrivarsi 400 sub Che dobbiamo fare La Royal Rumble Mi raccomando Chi ha il premino Soprattutto che sarà Gratis Mi raccomando Buttateci una sabina Che ci serve supporto Dai che il suo periodo Stiamo andando forte Io sono poveri Ma non vi dovete giustificare Ragazzi Non siamo dal Pippega TV Vedete dire Siamo poveri Io ho detto C'è la poveri Ogni tanto Non lo faccio mai Ogni tanto lo dico Ricordatevi Che comprai Una sabina gratuita Non so da quanto tempo Non pronunciavo Chi? Bravo Furio Non pronunciavo Queste parole in fila Ricordatevi Che comprai Una sabina gratuita Quello stavo dicendo Mi raccomando Andiamo avanti In che rapporti Vuoi che sia Nomi e cognomi Mi minaccia di querela Ottimi Siamo ottimi amici Andiamo avanti E' successa una cosa Bruttissima E' importantissima Ivan Farei meglio A rispondermi Perché altrimenti A signore M A te Guarda A te guarda Guarda Era tipo Guarda Alert Bid Stop messi Così da farvi sentire E ringraziarvi Dai tra 5 minuti Ma questa è una storia Possiamo anche schifre Allora Stasera succede un casino Te lo dico già Succede il casino Sì si palle L'avevo pure messo Tre link Ma siamo stretti Con i tempi Quindi l'ho saltata Andatevi a rivedere La live del Cerbo Se avete la sub O comunque Quando la ricaricano Perché c'è un easter egg Incredibile Io sono molto nervoso Allora Quando è vero Dio Lo giuro Lo giuro Su Dio Sulla Santa Vergine Maria Guardate Ve lo giuro Sul Signore Posso dire Meglio Liccardo Posso dire Che è meglio Liccardo Che giura Sulla Vergine Maria Che è gente Che giura sui figli E sulle madri Posso dire Almeno la Vergine Maria Almeno per quanto Come la penso io Non esiste Almeno quello Però tutti che giurano In questo periodo È il periodo dei giuramenti Si parla di tribunali Di sentenza Ci sta che si giuri Però preferisco Lui che giura Su Giuseppe Maria E tutti i Santi Su gente che esiste Veramente Diciamo così Io non arrivo A guardare Non ho già guardare Niente Non ho già guardare Niente Se questa voce È vera Che ai tempi Quando Ivan Lico Mi piace Che sta in tutti i modi Cercando di non dire Perché dice Questa voce Perché lui Ha chiaramente sentito La live di ieri Lui fa In tutti i modi Pur di non dominarmi Questa voce è vera Liccardo L'hai vissuta È vissuto tuo L'avrai ascoltato Anche ieri in live Non è che è una voce Ivan ai tempi Disse questa cosa Te lo Ti mette la parola buona Giuro Giuro Liccardo Giuro Su mio figlio Ehi Rubio Grazie mille Non ci intrapponiamo Sai che siamo Quasi Siamo a 361 Rubio È bazzuto Grazie mille Ah ma non sa che adesso Partono No Partono tutti Lo so Scusate Aspetta Oggi solo un attimo Gallet Perché se no Ok Se no partono tutti di nuovo Ma dove cazzo sono finiti Gallet Delle sub Ah no Stavolta è andato bene Ok perfetto Stavo dicendo Stavo dicendo Che gli elastico Giuro su mia figlia Giuro 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 su mia figlia Che è così Riccardo Buonasera Coso Delle Che Per l'amor di Dio Non c'è È passato Però devo Devo capire Questa cosa Ivan Quindi mi devi dire la verità Mi devi rispondere Quando 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 Successe che Ivan Griego Ricevi una marea di informazioni Su me Compreso sulla mia famiglia Cose bruttissime Sbagliate Ovviamente Che io poi Avevo la mia famiglia In Come cazzo si dice Come cazzo si dice Aiutatemi Avevo la mia famiglia Indagata Divo Invece Il signore Il signore Il signore Riccardo Riccardo Devi ascoltare le mie live Le deve Le deve ascoltare bene Papà Possibile che il tuo figlio Ti deve insegnare Disse che La famiglia Poteva Dalle sue informazioni Poteva essere Che la tua famiglia Fosse collusa Con la mafia Questa è Io lo dico Riccardo Se mai che guardi Anche questa live Eh Almeno puoi recuperare Diciamo così Catena Il Lat Truff Se questa voce È vera Se questa voce È vera La voce Lo giuro La voce L'abbiamo detto L'abbiamo fatto anche Ascoltare la Eliccarlo Ti passo anche il video Ricchi Se vuoi Ti passo anche il video Non c'è problema Alcuno Sulla madonna vergine Ivan Tu me lo devi dire A me mi hanno consigliato Fai denunce Perché Io non faccio Nessuna denunce Basta avvocati E non posso neanche dire Cosa faccio Non lo voglio neanche dire Cosa faccio Perché sono un signore Sono una persona per bene Ok Va bene Comunque volevo solo Farvi vedere questo pezzettino Per dimostrare In maniera incontrovertibile Che Riccardo Rosario Si è guardata la live Con palle uomo Tra l'altro Che poi era pure Risultato abbannato Sul canale Ma l'hanno sbannato Oggi Va bene Comunque Riccardo Comunque si Ti lo assicuro io Giuro su mia figlia La più piccola che ho Che E' così E' così Ai tempi Ci fu questa cosa Ma noi l'abbiamo tirata fuori Solo per far capire Un contesto Ovviamente Non è per tirare fuori Cose vecchie Allora Visto che si parla Di Ivan Quante figlie ho Masch Otto E io ho giurato Su quella più piccola No magari su quella No no Su quella più piccola Comunque dicevo Allora visto che parliamo Di Ivan Per chi è seguito a live Sa che ieri sera Abbiamo parlato Del rapporto Tra Ivan Grieco E Matteo Saba E abbiamo confrontato Due versioni Una della live Di Ivan Grieco Dell'altro ieri mattina E l'altra Di Matteo Saba Della sera Che in alcuni casi Non coincidevano Ok Sarà audio di strada Se adesso ti faccio entrare Palle Basta che non sia troppo Di strada Allora Finiamo la live Mi scrive Ivan E mi scrive Ma guarda che Qua non si capisce Voi volete fare solo Lo show Non ho capito Perché mi avete Dissato in live Adesso sto parafrasando Non ho capito Cosa c'entro io Con Matteo Saba Ho fatto una live L'altra mattina Dove chiarivo tutto Non ho capito Bisogna pur di far conto E si fa qualsiasi cosa Ecco Io Chiaramente rispondo Dico guarda Ivan Secondo me Tu se parli così Non hai visto la live Nessuno ti ha accusato Di nulla Abbiamo semplicemente Usato la tua versione Per metterla in contrasto Con quella di Mi ha scritto in privato Su Instagram Si intende Con quella di Matteo Saba E Poi non capito Dice no Perché mi hanno informato Mi hanno detto Questa cosa qua Insomma Dopo un po' che ci parlo Ivan capisce Che le nostre intenzioni Non erano assolutamente Quelle Di fare content su di lui Di fare Di prendere visibilità Perché Adesso voglio dire Per carità di Dio Con fronte a Ivan Siamo un canale piccolo Però non è che abbiamo bisogno Adesso di Ivan Grieco Adesso Più che altro che questa robina Questa dinamica qua Questa retorica del Volete fare spettatori su me Viene fuori veramente Sempre da un certo tipo di persone Però vabbè Comunque Ivan Però bene Gli spiego Gli dico guarda Se vuoi sono disposto pure A Sono pure disposto A passarti in privata A live Visto che sono abbonati Nei dico Ivan Abbonati Ovviamente per vedere Sta Torino Mario Eh Mica è stato veloce Comunque venire a Torino Vabbè Milano Torino in macchina Soprattutto se hai Una Ferrari Ci metti un'oretta Dai effettivamente Vabbè Vi auguro un buon soggiorno Nella mite città di Torino Comunque stavo dicendo Che Prima ti spiego Ivan poi capisce Ho colto anche L'occasione Adesso vi faccio vedere Vi faccio vedere anche Da dove nasce il tutto Ho colto anche l'occasione Per fargli la domanda In realtà appunto In live Ti abbiamo fatto la domanda Già ho colto L'occasione Che mi hai iscritto Per chiederti Se F No nessun F Se per caso Tu ti ricordassi Chi ti ha passato L'informazione Sulla famiglia di Liccardo Ok Ho scritto io il post Ah Izzio Ah si sei tu Sei tu Sei tu Si 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 lo so Poi lo faccio vedere Izzio Non è che devo mettere la gogna Semplicemente far capire Dove nasce tutto Ah F Sulla risposta di cosa Adesso ti faccio entrare No un attimo Ti ho finito solo di parlare Poi ti faccio entrare Ti faccio intervenire E E dico Quindi Ma tu ti ricordi Chi ti passò Questa informazione Sulla famiglia di Liccardo Che potesse Aver subito Un'interrogazione parlamentare Per quanto riguarda Rapporti con la mafia Eccetera E E lui mi dice Che non si ricorda Che in questi giorni Avrebbe cercato di ricostruire Se Mi ha detto E per caso Matteo Lui ha detto Non lo so Adesso vediamo Cerca di ricostruire I suoi ricordi Diciamo così Mi è sembrata un po' Non dico una parola Un po' una mezza Lo so Strano Uno si ricorda o no Però vabbè Comunque Nel caso Ivan mi potrà rispondere Nel senso Se gli verrà in mente Se è stato Matteo Saba O meno A passare di quell'informazione Ce lo ricorderà Insomma Nei prossimi giorni Se se lo ricorderà Ce lo verrà a dire a noi Non ce Se lo ricorderà Se se lo ricorderà lui E Certo 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 Vabbè Ragazzi Diceva che in quel momento Non se lo ricordava Che avrebbe un po' Cercato di scavare Magari nei suoi messaggi Quindi questo è quello Che sui suoi Ivan Comunque tutto a posto Nel senso che ci siamo chiariti Ha capito che Purtroppo L'unica cosa Che è un po' da rimprovarli Insomma Vabbè Poi a palle Forse ha chiesto scusa Adesso ce lo racconterà lui A me Insomma L'inizio non è stato L'immigione Ha detto Ah cerchi visibilità Col mio nome Di qua e di là Le solite cazzatine Io non chiedo Delle scuse Ivan Semplicemente Spero abbia capito Che la nostra Era semplicemente Una live Fat checking Praticamente Cioè Di confronto Fra due versioni Che non coincidevano Ok Allora In realtà La questione Nasce tutta La gruppa Facebook Un signorizio Che anche qua in chat Scrive Questa Scrive Aspettate un attimo Che vi avvicino Il tutto In realtà Non è che abbia scritto Neanche nulla di terribile Magari non faccio vedere Il tuo nome Dai Così Cerco di Non vorrei mai Allora Eccolo qua Scrive Prima della live di domani Vi consiglio di guardare Il voto Della live di stasera Di Whitealf Possono esserci Spunti interessanti Sotto varie prospettive Riguardo i presunti rapporti Tra Saba e Ivan Sono state dette tante cose Edit Ciò che vorrei fare Notare È un palese Killeraggio mediatico Nei confronti di Ivan In mezzo perché colpevole Dove essere unito Alla crociata Antisaba Ecco Questa è una cosa Su cui Assolutamente Non mi trovo d'accordo Nel senso che Non era assolutamente Un killeraggio Nei confronti di Ivan Ma un confronto Che siete insinui Non ho capito Izio Vabbè Non ho capito Siamo insinui Cosa Perché siamo insinui Non abbiamo accusato Ivan Di nulla ieri sera Ah ok Ma non l'avevo capito Scusi Signorizio Comunque Edit Miss Data la relazione Tra Ivan specifico Nella live di Whitealf Scusate Data la relazione Di Ivan specifico Nella live di Whitealf Per me ci sono State insinuazioni E forme comunicative Spietate verso Ivan Ma non ho mai parlato Di fake Mai Ok Quindi Va bene Io Qui è stato modificato Il post Edit Miss Sì lo dico sempre Insinui No ma insinui Non è il mio meme È un meme del Cerbero È una parola Come al solito Le parole italiane Vengono Poi diventano proprietà Del Cerbero Quindi gliela do Quindi niente È dato da qui Poi dopo qui C'è Ivan Chiaramente Che interviene Tutti i commenti Vediamo un po' Qui c'è una mia risposta Vabbè Adesso Ma non ce ne Ah no Sì L'unica cosa Che volevo farvi vedere Sono i commenti Di Ivan Ma non ci sono più Aspetta Noi commenti precedenti Il Facebook Non si capisce un cazzo Eccolo qua Prego Allora Eccolo qua Ma almeno si informassero bene Un bavaglino Non un body Ah questi vogliono Solo creare Abbiamo parlato Del bavaglino E dei body E poi i body In realtà Ne abbiamo parlato Ne abbiamo parlato Perché Alla fine Era Sul discorso Ci stava Cioè nel senso Non è che abbiamo accusato Ivan Greco Che fosse Comparato Per un bavaglino Un body Volevo fare Direggio su questo Vogliono creare due Hype per due spicci Che vita triste Era tutto qua Il discorso Che volevo cercare solo Da qui è nato tutto Poi comunque Quindi non ci siamo sentiti E va bene così Tutto risolto In sino Come lo usano loro Non è italiano Vabbè Però comunque Una parola Che appartiene Al vocabolario italiano Diciamo Ah ma io Do a Cesare Quel che è del Cerbero Anzi Do al Cerbero Quel che è di Cesare Assolutamente Roba loro Io la uso Citandoli Assolutamente Quindi niente Appunto Questo è da capire Però comunque Ivan A quanto pare Adesso facciamo entrare Palle Apro discord Palle Perché si è sentito Poi successivamente Con palle uomo Però io Per me Per quanto mi riguarda Tutto Tutto a posto Con Ivan Nel senso che Non c'è problema Si stava Solo parlando Discord Sì 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 Sto aprendo Sto aprendo Palle Venga pure Insinue Insinue verbo Non la parola Insinuare Deriva da insinuare Mamma mia Come siete colti In questa chat Che fortunato Che sono Palle Però lei mi deve rispondere Eccolo Palle Allo 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 Bene Già ieri Infatti L'autore del post Abbiamo avuto Un lungo Scambio Su Instagram Comunque ripeto Secondo me L'ha fatto in buona fede E ha espresso Una sua opinione Che io non condivido Per cazzi Le opinioni Sono come le palle Ognuno ha le sue Anche le signorine In ogni caso Mi sento con Ivan Perché insomma Ho fatto anche un post Su Instagram Ah tra l'altro Il presidente Mi ha bannato Da Instagram In tutta risposta Ho reso pubblico Il mio profilo Yeah Ah il profilo pubblico Di Palle Uomo Andate a seguire Palle Uomo Tutti in massa Sì sì Perché io cerco Visibilità Visibilità Diamo la visibilità Che meglio Andate a seguire Palle Uomo Eh diceva Mi senti? Eh sì Aspetta che la connessione Ballena Sai Qua a basso Spente Allora In ogni caso Insomma Anche durante La live del Cerbero Io taggo Ivan Chiedendo spiegazioni Circa le fake news Di cui parlava ieri O comunque scriveva ieri E lui mi scrive Dicendo Eh Mi son chiarito Con Guaidalf Io ripeto Non so Che cazzo Mi siete sentiti In privato So che mi siete sentiti Già ieri Quello me l'hai detto Però non Ti ho chiesto Merito Né contenuto Anche perché Avevamo altro da fare La questione Lui mi dice No mi son già chiarito Con Guaidalf Te che vuoi Perché vuoi Il content A tutti i costi Ancora una volta Lui ho detto Vabbè E ho detto Ma scusami Ok Gli spiego Gli faccio Estensivi Audio Dove Gli chiarisco un po' La situazione E dai messaggi Che mi manda Anche questi audio Si evince Che comunque Ancora lui Non avesse visto I vod in questione Che fosse Ancora una volta Un sentito dire Perché mischiava Delle cose Alcune informazioni Erano Totalmente errate Altre mischiavano Cose Della live Vecchia Che abbiamo fatto Ok Con cose Della live di ieri Gli ho spiegato Nel dettaglio Tutto Ho detto che Capisco anche Che insomma Magari Vista l'ora Visto il tutto Neanche Dico Magari Se vuoi Ti passo il vod Se non ti chiedi Se non aspetta Che l'hai ricaricato Ma insomma Potrai verificare Certo Ma io mi sono reso Disponibile Il mio stile Mi sono reso disponibile A passarglilo anche Tanto oggi L'avrei scaricato Sì Vabbè Fatto sta Fatto sta Perché la questione Qual è Lui comunque Scrive quel messaggio Dicendoci Siamo già chiariti Io ho mandato Un messaggio Dove Dicevo Guarda sì Ok Va bene tutto Comunque ci sono Due domande Che io ho fatto Pubblicamente Nella live Perché ho Per assunto Che lui Avete in qualche modo Preso visione A cui gradirei Un giornalista Un giornalista Posso permettermi Il lutto Il lutto Il lutto Il lutto è quello di oggi Per qualcun altro No posso permettermi Il lutto Il lutto Ecco Posso dire questo Vabbè Il lutto Di fare un po' Di spettacolo Un pochino Sempre Senza infamare Senza diffamare Senza calugnare Che è importantissimo Ricordate calugna Questa parola La imparerete bene La questione è che Chiariamo questa cosa Effettivamente Lui ammette No Non l'ho visto Il coso Il VOD Partiva un po' Prevenuto Per diversi motivi E alla fine Ha detto Essenzialmente Questo lo posso dire Guarda Mi scuso Come si è scusato In privato Ha detto Poi se volete Che mi scusi In maniera pubblica Ho detto Guarda Per quanto mi riguarda Non c'è bisogno Cioè io riporterò Che ti sei scusato Ok Dopodiché Non ho Fammi vedere Su Instagram No Non credo Però Gli ho ribadito Le domande Lui A una delle due Mi ha risposto bene Però io In realtà Mi ho detto Guarda Magari sta cosa Aspetta Siccome poi Era in live Mi ha scritto Guarda Perché l'ultimo audio Era quello in cui Gli dicevo Guarda Ok A me sta bene Se Per te non è un problema Sta cosa O io La diciamo anche in live Però se la vuoi dire tu E poi non la riportiamo Uguale Fammi sapere Siccome su questo Non mi ha risposto Aspettiamo un po' Perché così Che il content Pure per la prossima volta So il minutaggio Dai minutaggio Però effettivamente A una delle A una delle due domande Mi ha risposto Ovviamente È Anche questa La risposta di Ivan Quindi la versione di Ivan Quello che voglio comunicare È che nessuno Ha Detto Ivan Ha fatto Questo Ed è certo Che questa cosa Che quella notizia Venga da Matteo Sabato No È una domanda Che sortiva spontanea Certo Da E abbiamo evidenziato Alcune cose Che sono state un po' Omesse Ora Ripeto Non è che per forza È una Una roba programmata Banalmente Magari Non l'ha detto Poi quando la chat Lo imbecca Su alcune cose Risponde Cioè Su queste cose Non mi sembra Che abbia glissato Anche fatto Ripeto Di stare lì A scrivere A fare prova Una certa disponibilità A chiarire Ok Tutto qua Poi Ripeto Ognuno ha Le sue situazioni personali Posso capire Il periodo di stress Anche perché Probabilmente Essendo stato messo in mezzo In questa vicenda Ovviamente Non è una cosa Che fa piacere No è certo Ovvio Una vicenda un po' Oscura E nulla Oscuri presaggi Comunque Comunque diciamo Io posso dire Pubblicamente Che Ivan Si è scusato E di cosa Si è scusato Di averci dato Dei morti di fama Che cercano visibilità Ma anche perché Appunto Bastava Bastava semplicemente Guardarsi la mia live Prima di esprimere un'opinione Ecco Questa è una cosa Che io invito a fare Sempre a tutti Guarda Io sono Devo tornare Alla vecchia La vecchia filosofia Che mi anvippo Da tutti i canali Perché anche oggi Vedete questi vip C'è stato quel Qui Qui Pro Quo Per cui anche Marra Poi mi chiesto scusa E ho detto Tranquillo Era un meme Perché tu sai Io scrivo anche Solo per meme Marra Whatsapp Però in questo caso C'era Una cosa Ecco Colgo anche l'occasione Non Non dico Ciò che penso Perché non voglio Offrire Diciamo Spunti Per una Per una costruzione Astrale Però si Lo so Che è stato mostrato Quella famosa cartellina Ah sì Quella di una camper 2 Che ho anche io Ragazzi E qua E qua C'ho anch'io La cartellina Però capito Non è neanche interessante Quello che è interessante È il perché Quella cartellina Vabbè Non mi farà andare No 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 L'avevi tanto Già detto È troppo divertente Ma io infatti L'ho messa qua Perché anche io Voglio la mia cartellina Una camper 2 Penso di avere Tutto il diritto Di avere La mia cartellina Una camper 2 Ti suona A quanto mi riportano Io non ho visto La live del presidente Però come sai C'è tutto Un messaggio Un sacco Di Sai quelli che lavorano Per noi Che stanno lì 24 su 7 A controllare i canali Sì 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 poi sono Ogni tanto sono 7 Ogni tanto sono 2 Ogni tanto sono io È incredibile Cioè è assurdo Vabbè Insomma tutte queste cose qui Però insomma Mi sono arrivate Diverse comunicazioni Che ovviamente Non ho ancora Vecificato Perché Con tutto il bene Di andare a vedere Che cazzo ha detto Il presidente Se ne sbatte Anche per un cazzo No lo faremo In parte i prossimi giorni Almeno io lo farò Il presidente Dovrebbe Dovrebbe semplicemente Dire solo Una cosa Ecco Da Da persona onesta Intellettualmente Gli suggerirei Di chiedere Semplicemente scusa E dire sì Scusate Ho Ho fatto Una cazzata Quello che ha fatto Per finta Nelle storie Oggi Però per davvero Per una volta Diciamo così Non lo so Sai Sono bloccato Certo Non esistono modi Per vedere Le storie Anche se si è bloccato Attenzione Assolutamente Non è così Quindi Anche Lo sniccino Che gli ha Ho fatto Guarda Che cose Ci sarebbero Che ci sarebbero Da dire Ma Sticazzi Però Queste persone Sono convinte Di avere Capito Una community Quelli che La nostra community È splendida È splendida Sono tutti I nostri fedeli Invece Sono tutti Dei Snitch Che passano In formazione A White House E palle uole Sono loro Occhio Occhio a chi avete Dei vostri gruppi Tele Ogni giorno Incredibile Ecco perché Io dico sempre Ma se tu Non fai niente Di riportabile O di fraintendibile Ma stai tranquillo Ma che cazzo Te ne frega Cioè Non devi preoccuparti Io non devo preoccuparmi Perché infatti Vedi A me fa ridere Uno dei messaggi Tra l'altro Che stava molto divertente Perché si citavano Le mie palle Credo Si riferisse ai testicoli Nel mio nickname Sono spiegato più volte Alludo al biliardo Come il signor 15 Cipalle Grande film Vi consiglio Di andarlo a vedere Quindi si alludeva Alle mie palle Io Che ho fatto Tagato Il signore Caro amico Deddy Bunny Che pure il presidente Ha conosciuto Dicendo Guarda Puoi descrivergliele Insomma No Se è curioso Fortunatamente Io non ho mai avuto Questi contenuti Sì Deddy ha messo il cuoricino E tanto Mi basta Va bene Molto molto bello Senti Eh Dica palle uole Ah Eh Che dire Che dire Ah ecco Posso cogliere un'occasione Quante occasioni sta cogliendo Parliamo Qui siamo in chiusura Erei troppo occasione Senti Tu mi hai fatto Il bonifico Ah lo sai Che sei un evasore fiscale No No Non si dico Eh no Guarda Mi dicono Dalla regia Che sei un evasore fiscale No Gravissima Questa accusa Ma chi ha detta Mi ricorda Eh non lo so Però mi ricordo Qualcun altro Che alluderà a questo Guarda Sì No ma l'ho parlato Anche in inizio live Di qualcuno Che mi parla Fate Fate la due diligence Ragazzi Fate quello che dovete fare Tanto il vostro maestro Eh il vostro maestro Mi aveva insegnato bene Mi avrei insegnato bene Oh al massimo Al massimo Incazzati con la commercialista Certo Cioè evidentemente Ti sta truffando Mi sta truffando Ma è ovvio Sono dei Qualora 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 questa cosa Fosse vera La tua commercialista Ti ha mentito Quindi truffandoti Certo Quindi l'agenzia delle entrate Assolutamente Ci ha dato un'informazione Anche sbagliata Ok ok Va bene Va bene Ma capate Capate No perché io voglio citare una cosa Finché Non viene dimostrato un cazzo Siete dei Quacquaraquà Ma vedi che Quacquaraquà Ma certo Fabio e Martina Ma perché parlate Di Quacquaraquà Ma perché Ma dai Ah io voglio sapere Adesso che è stato dimostrato tutto Che cosa Ma dai Signor Fabio Signora Martina Ma che fa Su via Mamma mia Va bene Volevo dire una cosa Io oggi in realtà Volevo andare a scrivere una cosa In chat Da Il Pipega TV No Io Io volevo andare a scrivere una cosa in chat Da Il Pipega TV E ho scoperto Proprio perché Siccome sto sempre lì Già lo sapevo Da anni Ho scoperto Che io sono bloccato Quindi Ora non dico Che sia stato il Pipega Però Qualche moderatore Qualcuno che ha i poteri Mi ha bloccato Quindi io non posso mettere Follo Essendo la chat Solo follower Non posso scrivere in chat Ho provato anche a redimere Ma non volevo sganciare soldi Perché io sono Un Nulla tenente E basta spendere No Non è vero Non sono un La tenente ragazzi Comunque No Non volevo spendere Quindi io poi Ho informato Un moderatore Ho detto Vabbè Fai sapere questa cosa Tanto mi basta Dopodiché È divertente Perché io ricordo Non è che ricordo Ricordo Con prova a video Un momento In cui Pipega Diceva Palle uomo Io la parlevo così Ma sono anche bannato a lui Io Sono anche disposto A far vedere pubblicamente Lo storico Della scheda mod Sul mio canale Di Pipega Pipega Da meno Non è mai stato bloccato O Bannato Tanto meno Semplicemente Come Tutti Tutti quelli a cui Io Da un certo punto in poi Quindi da giugno in poi Tutti quelli che mi hanno scritto Ho provato a scrivere A cui io non ho già scritto Non possono E quindi Ebbè I messaggi Pipega Sono bloccati Quello sì Ma il resto Non è vero un cazzo Anche io sono bloccato Da questo Fantomatico Pipega Bannaggio Non mi preoccupare Bannaggio Eh l'altro Io vorrei chiedere solo questo Io che non ho mai scritto in chat Da Riccardo Mimmo Ma Ma i signori Ma erano stati sbannati tutti E io che non ho mai neanche scritto In quella chat Allora Io volevo Volevo solo dire una cosa Prima di salutare Palle Che io Non ho mai bannato Matteo Saba Non ho mai bloccato Non ho mai bannato Il Pipega Non l'ho mai bloccato Io mi chiedo Il perché Queste persone Abbiano questa premura Si prendono questa premura Ma perché devi bloccare Tanto che cazzo Cioè Ma chi ti Mai scritto un messaggio A Matteo Saba L'ultimo messaggio Che io ho scritto Gli rispondeva solo Delle accuse Che lui faceva Dicendo Prima che ospitasse Milite Ma chi Non li avrei mai più scritto Non vi perdete Tempo a bloccarmi Ma chi cazzo Ricerca Ma chi ti senti Allora Io ho un messaggio Io l'ho mandato Appunto Stamane Alle 8 del mattino Ho un messaggio A Matteo Io l'ho mandato Credo che sia lui Perché appunto L'account È quello lì Privato È The Real Ti ricordi che io Non ricordavo Se fosse The Official O The Real Ora lo so L'ho sentito Un po' di volte Giusto Comunque Il mio messaggio Che posso leggere Matteo Come stai Spero bene Senti Non vedo più Le storie Di The President Club Non è che per sbaglio Uno del tuo staff Mi ha bannato Un abbraccio E buona giornata Però non mi ha risposto Comunque Asporto un attimo In diretta Perché mi ha risposto Ivan Magari posso dire La sua risposta Magari no Guarda un po' Aspetta che ascolto Facciamo l'esclusiva Prima di chiudere Ciao out Eh outsider E lì io sto tremando Dico la verità Lì io sto tremando Si può leggere? Beh Attendiamo questo Vabbè Ascolto bene dopo Ho sentito metà Di uno dei due messaggi Comunque Si Da il consenso A divulgare Le sue risposte Mi dà anche la seconda risposta Prima risposta Prima risposta Ecco Freebooter Attenti Prima risposta Di Ivan Grieco Le due domande di ieri Anche domanda Per aumentare Circa un legame Tra la famiglia Di Riccardo E La mafia La risposta è No Non è stato Matteo Saba È stata un'altra persona Ok Quindi abbiamo una risposta Diversa da ieri Perché ieri Lui mi ha detto Che non se lo ricordava Ok Aspetta Aspetta Questo posso chiarire Perché ti posso dire Che lui ha detto Guarda Non me lo ricordo Sì Vado a controllare Eh a me mi ha detto La sua cosa Vado a controllare Eh ma Però poi ti ha fatto sapere A me mi ha fatto sapere No a me no Ok Va bene Questa Questa è la versione Ok La seconda domanda Quindi no Non è stato Matteo Saba Ok Quindi stranamente Ecco possiamo dire Stranamente Quando gliel'hanno scritto Non si è incazzato E Non è una Un'insinuazione Né niente È un dato di fatto L'altra domanda Era Quindi quali sono state Le cose che ti ha fornito Perché su questo Sono d'accordo Cioè nel senso Ha detto Chiaramente Che gli aveva mandato Delle informazioni Circa Riccardo Sì E mi ha detto Niente di che Informazioni semplici Che insomma Mi trova anche Mi sembra anche Plausibile Visto Le capacità Insomma Di reperire Informazioni Del present Quindi Mi sembra in linea Comunque questa Ovviamente Ancora una volta È la versione La risposta Di Ivan Ivan Grieco Non ho finito di ascoltare i messaggi Se mai ci fosse qualcosa di più Completeremo L'informazione Domani Eh non lo so Te lo scrivo Insomma Però questa è la versione Di Ivan Grieco Ha risposto Non si è tirato indietro Complimenti Non sono ironico Poi Matteo Dirà Raccoterà un'altra storia Provando Ovviamente Entrambi Ci stiamo fidando Della parola Nel caso di Ivan Nel caso di Ivan Mi posso fidare Ha preso una cantonata Quella volta Per cui comunque Si è pentito Lo diceva Anche Non l'abbiamo messo Ieri Perché Ieri era proprio Confrontare Le parti In cui i due Parlano degli stessi Argomenti Non era Il totale uso Dell'audio Di Ivan Ok Quindi Ivan Per chi non L'avesse visto Ma domani Arriveranno su youtube Ma sì Ma così come Potevamo usare Altre cose Qui fa un sacco Un sacco di minutaggio Ma non le abbiamo prese Perché L'interesse Di quella cosa Ieri Era mettere A confronto Versioni Uguali o diverse Della stessa storia Esatto Ma questo l'ho già detto Inizio là Insomma Ovvio che Ivan Ha parlato Dei processi Mediatici Delle cose Prova che Matteo Non ha fatto Comunque Non me ne so accorto In quella live Non mi risulta Per mancanza mia E Ha preso Lo dico qui Comunque dice No Due anni fa Comunque ho fatto Degli errori Potessi tornare indietro Agire in maniera diversa Due anni fa Chi dice Pugì Non è che Non è che Ha detto Non ho fatto nulla di male Attenzione Ha detto Non l'avrei fatto così Se oggi Potessi tornare indietro A fare in una maniera diversa Punto Punto Va bene Va bene Palle Io devo scappare Veramente Ti saluto Ti ringrazio Per le news E ti mando Un bacione Piemontese Al gusto Di Acciughina Al vero Va bene Che puzzano Perché c'è l'aglio Va bene Va bene Va bene Mi raccomando Mi raccomando Se vedi qualcuno Che cammina Con passo rumoroso Chiamo Le forze dell'ordine Non si preoccupi Assolutamente Assolutamente Va bene Assolutamente Un bacione Ciao 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 Va bene Ragazzuoli Io direi Che per oggi È tutto Vedo qualcuno Che fa appunto Telegram Mi raccomando Entrateci Così Rimaniamo Rimanete Anzi Non rimaniamo Rimanete aggiornati C'è anche Instagram Non mi spammo Mai L'Instagram Seguitevi anche Su Instagram C'è il gruppo Link Mi raccomando Chi volesse entrare E seguite YouTube Che domani Ricarichiamo la live Che ho fatto ieri Compalle Riguardante Ivan E Matteo Saba Io vi mando Da una simpatica Signorina Mi raccomando Fate i bravi Che è un'amica Per favore Non fate le bestie Andate a salutare Mettete il follow Mi raccomando Veramente Ve lo chiedo Ve lo chiedo Per favore Perché è nuova Su Twitch Molto simpatica Molto carina Quindi Va bene Io vi ricordo Tutti i giorni Alle 18.30 Mi trovate in live Per chi non lo sapesse Vi mando un bacione E festeggiamo Stasera Champagne Stasera champagne Basso spendente A meno che non venga Matteo sotto casa A portarmi quello Che costa tanto Mi accontenterò di questo Dai ragazzi Che forse un capitolo Ce lo siamo tolto Io la cartellina Qua me la tengo sempre E spero che anche voi Un giorno abbiate La vostra cartellina Una camper 2 Ci vediamo domani Grazioni Ve se vuole bene Grazie a tutti per le sub Grazie ai mod Grazie a voi Che siete stati in chat Ve se vuole bene Vi mando un bacione Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao